Guida di Trading per Principianti Trading per Principianti Il nostro capitolo è Trading per Principianti e ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno per imparare il trading e capire come funziona, ti diamo le basi per diventare un vero trader online indipendente. Questa formazione gratuita ti offre le basi per iniziare a fare trading online e muovere i primi passi in questo entusiasmante campo, fino ad ora riservato solo alle banche. Con le basi del trading online presentato di seguito, sarai finalmente in grado di fare trading online a casa con la mente serena, senza alcun rischio contro il tuo conto demo. E poi quando ti sentirai a tuo agio con le piattaforme di trading inizia a fare i tuoi primi scambi e i tuoi primi guadagni. Cos'è il Forex? Il Forex è un mercato globale decentralizzato nel quale coppie di valute vengono scambiate in ogni momento ad un prezzo prestabilito di mercato, detto over-the-counter OTC. 3.E50 Il Forex, noto anche come mercato dei cambi, FX o mercato monetario è il più grande e il più liquido al mondo, con un volume medio di scambi giornalieri superiore ai 5 trilioni di dollari. Tutti i mercati azionari del mondo messi assieme, non possono neppure avvicinarsi ai mercati Forex. Che tipo di opportunità potrebbe rappresentare per te tutto questo? Scopri le infinite possibilità di guadagno con il Forex Trading. Adesso I vantaggi di tradare sul Forex Ore di trading Forex Il mercato dei cambi è aperto 5 settimi e 24 barra 24 Commissioni basse Non ci sono interessi o commissioni del broker o altri intermediari finanziari, fatta eccezione per lo spread. Forte liquidità Uno dei mercati più grandi con milioni di transazioni giornaliere Comprare o vendere Un mercato in cui puoi guadagnare in entrambi i casi Leva finanziaria I profitti possono essere generati anche se l'investimento è minimo Broker autorizzato MIFID Operando in sicurezza, Avatrade è un broker regolamentato al 100% in Italia e in Europa. Perché fare trading sul Forex con Avatrade? Per fare trading di Forex in Italia devi capri e che nessuna azienda può garantirti dei guadagni sicuri. Noi di Avatrade, però, ci impegniamo a rispettare una serie di valori che definiscono la nostra relazione con il cliente, dandogli la possibilità di operare in totale serentia e fiducia. Ecco perché desideriamo offrirti la migliore formazione di trading possibile. Un servizio clienti multilingue di alta qualità attivo 24 ore su 24, 5 giorni a settimana. Le piattaforme di trading più avanzate e la promessa di un'innovazione costante al tuo servizio. Il mercato Forex e i tassi di cambio Le valute si tradano in coppia, valuta base e valuta quota, e il tasso di cambio è il valore della valuta di base calcolato in valuta quota. Quando esamini il tasso di cambio dell'euro barra OSD quello che ti interessa sapere è quanti dollari, valuta quota, e puoi acquistare per un euro, valuta base. Lo spread generato viene calcolato in pips. Se dunque il tasso di cambio dell'euro barra OSD è 1,2356, per ogni euro che spendi avrai 1,2356 dollari. Se il tasso di cambio è in aumento, la valuta di quotazione si sta rafforzando a spese della valuta di base. Se il tasso di cambio è in calo, la valuta di base si sta rafforzando a rispetto alla valuta di quotazione. Da quali fattori sono influenzati i tassi di cambio? Ci possono essere diverse motivazioni per cui una valuta può guadagnare o perdere su un'altra, alcune di queste sono Fattori macroeconomici che influenzano il mercato, instabilità politica di un paese, guerre, grandi transazioni da parte di multinazionali. Fattori microeconomici influenzano in ammiera meno rilevante il mercato dei cambi, e sono per la maggior parte le aziende che costituiscono gli indici di mercato. Forte inflazione Possono esserci tanti altri motivi, in generale comunque basta controllare il calendario economico, per essere sempre aggiornato sull'andamento dei vari strumenti o di mercato. Il mercato Forex Grazie ai quasi 4 trilioni di dollari scambiati ogni giorno, il mercato Forex ha il più alto tasso di liquidità al mondo. Tale liquidità dà la possibilità di acquistare praticamente tutte le coppie di valuta che vuoi quando vuoi nella fase di apertura dei mercati Forex. Uno dei principali fattori a determinare il trading Forex sono gli orari di apertura. Il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni a settimana. La sua natura globale, il trading ha inizio in Nuova Zelanda e prosegue poi in Australia, Asia, Europa e Stati Uniti, e consente di fare trading su ogni valuta dal lunedì al venerdì, di giorno e di notte. I tassi di cambio sul mercato Forex, come abbiamo visto, sono influenzati da vari fattori, tra cui la stabilità politica ed economica dei paesi coinvolti e le loro politiche monetarie. Dato però che le transazioni nel Forex sono immediate, il fattore che più di tutti influenza il prezzo di mercato è la speculazione. Se i trader speculano a causa di un certo motivo o di un evento, una valuta si indebolirà o rafforzerà. Facendo trading, ne modificheranno il prezzo, alterando i valori di domanda e offerta su quel determinato mercato. Maggiore è il numero di persone convinte che un certo evento si verificherà, maggiore sarà l'effetto che otterranno sui prezzi di mercato. Termini tecnici del Forex Vediamo insieme alcuni termini ricorrenti nel mercato Forex per capire bene cosa significano. Leva finanziaria Come si può intuire dal nome, la leva finanziaria è un meccanismo che permette di aumentare il profitto o la perdita potenziale dell'investimento. Nelle transazioni con le valute è raro assistere a variazioni giornaliere maggiori del 2%, con la leva finanziaria, leverage in inglese. I piccoli risparmiatori potranno moltiplicare il valore del capitale investito fino ad una leva massima di 400, 1. Praticamente questa leva significa che per ogni euro investito il broker ne considera 400, è facile capire quindi come un investimento relativamente piccolo di 5.000 euro si trasforma in un grande investimento da 5.000 x 400. 200.000 euro, dunque anche solo una piccola variazione dello 0,25% con questo capitale porterebbe ad un guadagno di 200.000 x 0.25%. 500 euro Long e short, questi due termini indicano il comportamento del trader nei confronti della valuta. Long significa acquistare una valuta pensando che questa salirà di valore. Andare short invece significa vendere una valuta, quando ritengo che questa perderà di valore, in modo poi da riacquistarla ad un prezzo più conveniente. Come guadagnare con il Forex? Domanda da un milione di dollari Non esiste un manuale con le indicazioni per avere successo nel Forex, tuttavia ci sono alcuni fattori che possono aiutare ad intraprendere la giusta strada. Questi sono solo alcuni dei nostri consigli di trading. Preparazione tecnica Imparare bene il funzionamento del mercato Forex e della piattaforma di trading con cui si intende agire. Decidere quale strategia intraprendere e non lasciare che fattori esterni ci facciano cambiare idea. Disciplina Agire nel Forex richiede pazienza e disciplina, bisogna essere calmi e non lasciarsi prendere emotivamente dall'andamento del trade. Avatrade mette a disposizione dei propri iscritti una serie di strumenti utili all'istruzione e al perfezionamento delle proprie tecniche di trading. Si raccomanda di studiare i materiali forniti e di praticare la piattaforma demo prima di investire dei soldi. Cosa sono i CFD? CFD, o contratti per differenza, sono uno strumento finanziario simile a un indice o a una quota azionaria che consente di negoziare gli indici di borsa, una quota azionaria o una commodity senza possedere effettivamente l'asset sottostante stesso. Il prezzo del CFD è il prezzo dell'asset sottostante, sia esso una quota azionaria, un indice o un future. Se il prezzo dell'asset sottostante sale, lo farà anche il prezzo del CFD. Una differenza fondamentale rispetto alle negoziazioni fisiche è che non vi sono commissioni di scambio e molte delle inefficienze che si verificano nel trading azioni in borsa delle quote sottostanti sono. Inoltre CFD consentono di sfruttare il potere della leva finanziaria che generalmente non è disponibile per i prodotti azionari. Di conseguenza, la popolarità dei CFD è aumentata drasticamente negli ultimi anni. AVA Index offre CFD con zero commissioni e requisiti di margine molto allettanti. I CFD sono diversi dai futures e qui potete scoprire perché. I contratti per differenza CFD sono negoziati con margine, utilizzando la leva per incrementare al massimo il capitale di trading online. Offriamo una leva di almeno 20 volte sul tuo capitale investito. Nessuna commissione né tassa, in questo modo il tuo profitto resterà nelle tue mani. Puoi comprare o vendere il contratto per trarre profitto dai mercati in ribasso o in rialzo. Noi di AvaTrade suggeriamo a tutti i nostri clienti di esercitarsi aprendo un conto trading demo, che permetta di prendere dimestichezza con la nostra piattaforma e conservare il capitale intatto. Un singolo conto ti permette di accedere a indici azionari, quotazioni del petrolio, oro, argento e, naturalmente, a un'ampia gamma di coppie di valute Forex. Puoi utilizzare subito i guadagni derivanti da una negoziazione per aprire nuove posizioni in altri mercati oppure per diversificare i tuoi investimenti in un gran numero di mercati diversi. Esempio di trading con CFD, l'indice FTS 100 è attualmente quotato 6320,50 e Ava valuta uno spread di 6319,50 sterline, vendita, e 6322 sterline, acquisto. Sull'FTSE. Il prezzo di acquisto di uno CFD è 6322 sterline. Ava fornisce una leva di 20 e un minuto, perciò invece di dover spendere 6322 sterline del tuo denaro per comprare un indice FTS 100 reale puoi comprare un FTS 100 CFD con 315,025 sterline, sterline, sterline a 6322,00 barra 20, e il resto ti viene fornito come leva. In questo modo con 6322 sterline puoi comprare 20 FTS 100 CFD invece di un solo indice. Se l'indice FTS 100 sale dell'1% e io avevo acquistato long il mio guadagno sarà 6322 sterline x 1% uguale 63,22 sterline. I vantaggi del trading di CFD. Leva finanziaria. Si ha la possibilità di aprire posizioni molto più grandi del capitale realmente investito. Quindi anche un investimento di 1000 dollari grazie alla leva può diventare di 10.000 dollari e anche di più. Ampia scelta di strumenti. Si possono tradare CFD di azioni, indici, materie prime, valute e tanti altri strumenti. Posizioni long o short. Si possono aprire posizioni sia al rialzo che al ribasso a seconda delle nostre previsioni. Trading pratico. Per negoziare CFD è sufficiente avere anche solo uno smartphone o un computer e si può operare da qualunque parte del mondo. Inoltre la burocrazia è molto più snella rispetto ad un conto bancario. Zero commissioni. Non sono previste commissioni fisse di negoziazione. Con i CFD l'unico costo risiede nello spread, la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Consigli mirati e utili per investire nei contratti per differenza. Effetto leva. Lo stesso punto elencato a fianco tra i vantaggi può anche essere visto come uno svantaggio. Come detto, la leva aumenta l'esposizione del proprio capitale nell'investimento. Se però il trading non va come sperato e ci si trova in negativo anche la perdita agirà con la leva. Se la perdita supera il capitale investito si chiuderà automaticamente la posizione. Alta volatilità. In certi periodi il mercato finanziario può subire delle forti variazioni con svariati cambi di segno in pochi secondi. Bisogna essere in grado di gestire questi casi usando apposite strategie come stop loss e non lasciarsi prendere dall'emotività. Rischio broker. Per operare con CFDC si affida a dei miglior broker Forex online. È importante che questi siano regolamentati secondo gli standard europei e che siano conosciuti come affidabili. Avatrad è un broker riconosciuto a livello globale ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Qual è il modo migliore per iniziare a fare trading con i CFD? Il modo migliore per iniziare a fare trading con i CFD è fare esperienza con le piattaforme demo fornite dal broker. Grazie a queste piattaforme anche il trader meno esperto può imparare il meccanismo delle transazioni e capire il mercato senza rischiare denaro reale. Una volta che il trader avrà acquisito tutte le competenze necessarie e si sentirà sicuro potrà iniziare a fare trading di CFD con soldi reali. Trading di CFD sul Forex. Il mercato dei cambi, detto Forex, è per volume di scambi il più grande al mondo con milioni di transazioni effettuate ogni giorno. Con i CFD è possibile acquistare il derivato delle coppie valutarie, come euro-dollaro o USD-GBP per esempio, con il vantaggio di poter usufruire della leva finanziaria, Avatrade per le coppie Forex offre una leva fino a 200,1, o di aprire posizioni long o short. Come fare trading su un indice? Nonostante gli indici siano quotati diversamente rispetto alle azioni ordinarie o alle quote azionarie, essi stessi quando vengono negoziati hanno e BID, e offerta, e e ask e domanda. Gli indici consentono di fare trading come un contratto per differenza CFD e sono considerati strumenti di trading con CFD online. Ovviamente, in modo da effettuare l'investimento vero e proprio, è necessario scaricare la 4 metri download, la piattaforma di trading più usata al mondo. Che cos'è lo spread nel trading? Nel mondo della finanza, lo spread indica la differenza tra il prezzo d'acquisto e quello di vendita di uno strumento finanziario asset. Questa differenza viene applicata dai broker come commissione, quando si decide di acquistare o vendere un asset. A seconda del volume degli scambi della coppia valutaria verrà determinato lo spread, maggiore la liquidità immessa in una determinata coppia minore sarà lo spread. Lo spread nel trading non deve essere confuso con lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Infatti entrambi sono chiamati spread ma se uno è la differenza tra prezzo di acquisto e vendita in un'operazione di trading, il secondo indica lo stato di salute dell'economia italiana. Esempio di spread Un esempio di spread nel forex, prendendo una coppia valutaria molto comune come euro-dollaro è il seguente. Prezzo di acquisto euro-dollaro uguale 1,2500 Prezzo di vendita euro-dollaro uguale 1,2505 Lo spread sarà la differenza tra questi due prezzi 0,0005 che si può esprimere con la dicitura 5 pip e punto percentuale, e ossia il movimento minimo che può fare un prezzo. Di solito il pip rappresenta la quarta o quinta cifra del valore decimale. Clicca qui per maggiori informazioni su cos'è lo spread. Cos'è la MetaTrader? MetaTrader è un software utilizzato comunemente dai trader forex come piattaforma di trading. In particolare la MetaTrader offre un canale di comunicazione tra i sistemi di trading valutario e il computer o dispositivo mobile del trader. MetaTrader Accedere ai mercati online è semplice e gratuito se si utilizza AvaTrade e la piattaforma MetaTrader.esistono due versioni della piattaforma MetaTrader. MetaTrader 4 MetaTrader 5 Con entrambe le versioni è possibile utilizzare diverse piattaforme senza alcun ritardo sul proprio server o PC. Il software richiede poche risorse e non sovraccaricherà il sistema, permettendoti di fare trading in modo rapido, con esecuzioni immediate, un vero e proprio e must quando si opera esse. Perché fare trading con la piattaforma MetaTrader? Oltre ad essere una piattaforma semplice da scaricare e installare, MetaTrader offre molte possibilità di trading e funzioni assenti in altre piattaforme. Segui le oscillazioni di prezzo dei vari strumenti ed esamina le tabelle e i grafici per identificare i trend e le tue operazioni. La piattaforma supporta i seguenti grafici, a Candela, Eikinashi e Renko. Impostare i tuoi ordini di trading è semplice e gli ordini di stop loss predefiniti vengono eseguiti immediatamente. Utilizzare gli ordini trailing stop loss e pendenti è altrettanto semplice. Gli Expert Advisory AI possono automatizzare il tuo trading utilizzando script che vengono caricati sulla piattaforma ed eseguiti all'insegna della massima semplicità. Questo ti permette di non dover essere sempre incollato al tuo computer e di non perderti più alcuna opportunità di trading. Impara dai tuoi errori con l'utile funzione presente sulla piattaforma che permette di revisionare la propria cronologia di trading. Una scarica ai dati relativi al tuo storico del trading per ogni coppia valutaria. 2. Crea richiedi relazioni dettagliate relativamente alle tue posizioni. 3. Monitora i grafici passati per tenere un riepilogo dei trend per ogni strumento. Grazie a queste funzioni, MetaTrader 4 ti offre già tutto ciò che serve per fare trading sul Forex, ma se vuoi optare per strategie più avanzate, MetaTrader 5 rappresenta la scelta migliore. MetaTrader 4 e il trading Forex La MetaTrader 4, MT4, è la piattaforma di trading più popolare al mondo che offre tutto quello di cui hai bisogno per fare trading online su un'unica interfaccia. All'interno della piattaforma troverai una potente combinazione di tecnologie analitiche e strumenti di trading all'avanguardia che permettono ai trader di implementare anche le strategie di trading più complesse. Perché fare trading con AvaTrade e LMT4? Esistono diverse ragioni per cui migliaia di trader hanno scelto di fare trading con AvaTrade e sicuramente LMT4 è una di queste, oltre a Leva elevata e bonus Ai nuovi trader che si registrano su AvaTrade vengono offerti leve elevate fino a 400, 1 e fino al 100% di bonus Forex. La leva finanziaria trading è una delle più alte offerte nel settore Broker debitamente regolamentato AvaTrade ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui quello di migliore broker nel 2015 e 2016, con oltre 10 anni di esperienza nel settore e una presenza in oltre 150 paesi Ancora più mercati Più di 250 asset su cui investire Vasta gamma degli strumenti più popolari, tra cui valute, materie prime, indici e titoli azionari Il fiore all'occhiello della MT4 è senza dubbio rappresentato dagli investimenti in azioni Le azioni, dette stocks, sono forse tra le più sicure e remunerative attività di trading al mondo Prendiamo ad esempio le azioni di uno dei marchi più popolari al mondo, la azioni Tesla Oggi Questo marchio, leader mondiale della Green Energy, non conosce soste ad il suo trend è sempre positivo Potrebbe essere un grande esempio di investimento sicuro Provatelo sul vostro conto demo Analisi dettagliate Tra i vantaggio da più di 30 grafici avanzati e strumenti di analisi, tra cui il test retrospettivo delle strategie di trading sull'MT4 e possibilità di esercitarsi grazie ai conti di trading demo, che permettono di aprire investimenti sulla piattaforma, senza intaccare il proprio capitale investito Trading automatizzato La compatibilità con IEI e MQL5T offre libero accesso a migliaia di strategie di trading automatizzato Inoltre, esiste la possibilità di caricare i robot di trading da te sviluppati o acquistati per un livello ancora superiore di automatizzazione delle tue operazioni Condizioni flessibili Spread fissi e variabili a partire da soli 0.9 pip Condizioni di trading personalizzate disponibili su richiesta Trading su mobile Fai trading con la MT4 dal tuo tablet o smartphone con le nostre app di trading gratuite per Android e iOS, con il metodo già ribattezzato e Easy Trade Smartphone Supporto completo Ricevi analisi di mercato quotidiane, materiale formativo di qualità e supporto multilingue in tempo reale 24-5 quando i mercati danno il meglio di sé MetaTrader 4 vs MetaTrader 5 MetaTrader 5, lanciato di recente, non è così diverso dal suo predecessore MT4, anche se viene presentato come una piattaforma molto più avanzata con sistemi grafici più avanzati e strumenti per analisi approfondite LMT4 è una piattaforma già completa per i trader Forex, ma se pensi che queste due migliorie possano esserti utili nel trading, allora LMT5 è la direzione giusta da prendere LMT4 rimane comunque la piattaforma più scaricata e utilizzata, e i trader sono soddisfatti delle funzioni, per questo non vi è la necessità di cambiare e di effettuare un upgrade MetaTrader 4 e il Trading Forex La MetaTrader 4, MT4, è la piattaforma di trading più popolare al mondo che offre tutto quello di cui hai bisogno per fare trading online su un'unica interfaccia All'interno della piattaforma troverai una potente combinazione di tecnologie analitiche e strumenti di trading all'avanguardia che permettono ai trader di implementare anche le strategie di trading più complesse Perché fare trading con AvaTrade e LMT4? Esistono diverse ragioni per cui migliaia di trader hanno scelto di fare trading con AvaTrade e sicuramente LMT4 è una di queste, oltre a Leva elevata e bonus Ai nuovi trader che si registrano su AvaTrade vengono offerti leve elevate fino a 400, 1 e fino al 100% di bonus Forex La leva finanziaria trading è una delle più alte offerte nel settore Broker debitamente regolamentato AvaTrade ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui quello di migliore broker nel 2015 e 2016, con oltre 10 anni di esperienza nel settore e una presenza in oltre 150 paesi Ancora più mercati Più di 250 asset su cui investire Vasta gamma degli strumenti più popolari, tra cui valute, materie prime, indici e titoli azionari Il fiore all'occhiello della MT4 è senza dubbio rappresentato dagli investimenti in azioni Le azioni, dette stocks, sono forse tra le più sicure e remunerative attività di trading al mondo Prendiamo ad esempio le azioni di uno dei marchi più popolari al mondo, la azioni Tesla Oggi Questo marchio, leader mondiale della Green Energy, non conosce soste ad il suo trend è sempre positivo Potrebbe essere un grande esempio di investimento sicuro Provatelo sul vostro conto demo Analisi dettagliate Tra i vantaggio da più di 30 grafici avanzati e strumenti di analisi Tra cui il test retrospettivo delle strategie di trading sull'MT4 e possibilità di esercitarsi grazie ai conti di trading demo Che permettono di aprire investimenti sulla piattaforma, senza intaccare il proprio capitale investito Trading automatizzato La compatibilità con IEI e MQL5T offre libero accesso a migliaia di strategie di trading automatizzato Inoltre, esiste la possibilità di caricare i robot di trading da te sviluppati o acquistati per un livello ancora superiore di automatizzazione delle tue operazioni Condizioni flessibili Spread fissi e variabili a partire da soli 0.9 pip Condizioni di trading personalizzate disponibili su richiesta Trading su mobile Fai trading con la MT4 dal tuo tablet o smartphone con le nostre app di trading gratuite per Android e iOS, con il metodo già ribattezzato e Easy Trade Smartphone Supporto completo Ricevi analisi di mercato quotidiane, materiale formativo di qualità e supporto multilingue in tempo reale 24-5 quando i mercati danno il meglio di sé MetaTrader 4 vs MetaTrader 5 MetaTrader 5, lanciato di recente, non è così diverso dal suo predecessore MT4, anche se viene presentato come una piattaforma molto più avanzata con sistemi grafici più avanzati e strumenti per analisi approfondite LMT4 è una piattaforma già completa per i trader Forex, ma se pensi che queste due migliorie possano esserti utili nel trading, allora LMT5 è la direzione giusta da prendere LMT4 rimane comunque la piattaforma più scaricata e utilizzata, e i trader sono soddisfatti delle funzioni, per questo non vi è la necessità di cambiare e di effettuare un upgrade Spread variabili La scelta dei professionisti I trader professionisti usano spread fluttuanti per avere la certezza di poter sempre fare trading con il miglior spread disponibile al momento di piazzare l'operazione Fanno inoltre comprendere meglio le sensazioni del mercato e la liquidità disponibile in qualsiasi momento, consentendo di analizzare ancora meglio le condizioni dei mercati e prendere decisioni di trading più consapevoli Con un conto AvaTrade con spread fluttuanti potrai entrare in un ambiente di trading professionale, con spread dinamici ridotti al minimo, esecuzione affidabile e software potenti anche per il trading automatico Avvicinati al mercato, e fai trading su più di 200 coppie Forex e CFD con spread minimi e tutta la ricchezza delle funzioni degli Expert Advisor 4 metri Hai già un conto o ti interessa avere maggiori informazioni? Scarica gli spread variabili Condizioni di trading con Il linguaggio MQL Progettato e sviluppato da MetaQuotes Software Corp, il linguaggio MetaQuotes è uno script integrato per programmare strategie di trading specifiche Questi script sono scritti in modo tale da facilitare il software trading automatico, ma anche la personalizzazione di indicatori tecnici, librerie e script Inoltre è possibile analizzare grandi quantità di informazioni e assistere gli utenti nell'orientarsi con facilità all'interno dei sistemi esperti Ogni programma, afferente al MetaTrader 4 e al MetaTrader 5, è caratterizzato da diverse funzioni e finalità MQL 4 e 5 Expert Advisors Un sistema di trading algoritmico con accesso diretto al sistema grafico interno che consente al sistema di intervenire in tempo reale quando si presenta un evento, oppure di ricordarti un evento programmato Indicatori personalizzati Oltre agli indicatori tecnici già presenti all'interno del sistema, è possibile impostare i propri indicatori tecnici in completa autonomia Script Gli script vengono attivati quando un trader desidera una singola esecuzione in presenza di una certa azione Funzionano solamente per dare il via ad un evento e non possono processare nessun'altra azione di trading Libreria Si tratta di una serie di funzioni personalizzate per salvare e distribuire componenti del programma Trading su valute Quello delle valute è il mercato più liquido al mondo Nessun altro mercato, infatti, regge il confronto con gli incredibili volumi scambiati su questo mercato Secondo le stime, il trading online di valute muove circa 5 trilioni di dollari al giorno, un dato che supera di gran lunga quello di tutte Il trading di coppie di valute consiste nell'acquisto di una valuta e nella vendita di un'altra allo stesso tempo Vediamo come funziona con un semplice esempio L'euro barra usd è una delle coppie di valute più scambiate Eur è il simboli dell'euro, mentre usd è il simboli del dollaro statunitense Nella coppia di valute appena indicata l'euro è considerata la valuta di base, mentre il dollaro è la valuta di quotazione Nonostante si riferisca a due singole valute, il rapporto è considerato un'unica unità In altre parole, quello su cui si fa trading è la coppia di valute, e non l'euro o l'usd Cerchiamo di chiarire ulteriormente questo esempio basilare aggiungendo qualche numero Supponiamo che l'euro barra usd venga scambiato a quota 1,25345, ovvero che un euro valga 1,25 dollari In altre parole, l'euro è più forte del dollaro, o servono più dollari per acquistare un euro Termini di base nel mondo del trading di valute Coppie di valute e major Nelle sue operazioni di ogni giorno, il trader ha spesso a che fare con sei principali coppie di valute, dette e major Si tratta di sterlina inglese dollaro, usd chf, dollaro yen, usd cad, aud usd e eur usd Sono queste le coppie di valute più scambiate al mondo, per cui è probabile che la volatilità sia maggiore Avatrade garantisce spread ridotti su tutte e sei le coppie major, ecco un'altra ragione per fare trading con noi Non siete ancora convinti? Come vi sembra, allora, l'opportunità di potervi esercitare grazie all'apertura di un conto trading demo, senza che il vostro capitale venga in nessun modo intaccato? Coppie di valute e minor In contrasto, le coppie minor sono coppie scambiate con frequenza minore Sono meno liquide delle coppie major, e spesso gli spread proposti sono più alti In genere si considerano coppie minor tutte le coppie che non rientrano nell'elenco delle sei major Noi di Avatrade offriamo un'ampia gamma di coppie minor su cui Coppie di valute esotiche Le coppie di valute esotiche includono solitamente la valuta di un paese emergente Non sono quindi chiamate coppie esotiche perché le valute sono quelle di paesi geograficamente lontani, ma per le difficoltà insite nel trading su questo tipo di coppia Le coppie di valute esotiche, infatti, hanno solitamente una liquidità molto bassa, spread più alti e meno market maker Sono valute esotiche, ad esempio il RAND sudafricano ZAR, il dollaro di Hong Kong HKD e il peso messicano MXN Trading di criptovalute Oltre le normali coppie di valute ricordiamo anche il trading di criptovalute Il pioniere di queste valute è il criptografo Satoshi Nakamoto che nel 2010 creò il Bitcoin, una moneta decentralizzata, che permette di effettuare transazioni istantanee con commissioni quasi inesistenti Ad oggi ha un valore di 9000 dollari per Bitcoin Si sono aggiunte molte criptovalute, come, Ethereum Dash, Litecoin Puoi tardare Bitcoin oppure molte altre criptovalute da subito usufruendo della leva finanziaria Vendita allo scoperto Il termine vendita allo scoperto e o e short selling ha origine con l'indice MID Qualche anno fa la gente prendeva in prestito dei titoli dal proprio broker online al fine di venderli per cercare di generare un profitto Oggi il termine andare corto, che deriva dall'inglese going short e o e shorting, è stato adottato dal mondo del trading online e significa appunto vendere uno strumento Al contrario, quando si acquista uno strumento, si dice che si sta e an I vantaggi della vendita allo scoperto Vendere allo scoperto ha diversi vantaggi che attirano molti trader, sia nuovi che esperti La possibilità di vendere allo scoperto offre ai trader accesso a strumenti altrimenti non negoziabili Se si vuole approfittare dal calo del prezzo di uno strumento, è possibile farlo senza detenere l'asset sottostante Per andare corto su uno strumento si va ad aprire una posizione di vendita sulla piattaforma Questo consente ai trader di beneficiare anche di mercati ribassisti, come spiegheremo più nel dettaglio nell'esempio sotto riportato Le vendite allo scoperto minimizzano il rischio assunto dai trader Infatti, non è necessario acquistare e vendere strumenti fisicamente, ma è possibile semplicemente fare trading elettronicamente e approfittare delle fluttuazioni di prezzo A tal proposito, leggi sul comprare bitcoin, il trend del momento Inoltre, nel caso in cui una persona possega ad esempio il petrolio greggio e il prezzo cala improvvisamente in modo deciso Questo si ritrova con un prodotto che vale meno rispetto a quando l'ha acquistato, a cui potenzialmente nessuno è interessato Con le vendite allo scoperto è possibile monitorare e controllare il proprio investimento tramite diversi tipi di ordini Quali ordini a mercato, stop loss, copy trader 2018 e altri Ciò può essere estremamente importante quando si opera con vendite allo scoperto Come quando si opera andando lunghi, è possibile operare con leva anche nelle vendite allo scoperto, aprendo così posizioni di controvalore superiore al capitale posseduto Esempio di vendita allo scoperto Prendiamo ad esempio uno degli asset più stabili e selezionati dai traders di tutto il mondo, il trading su azioni Nello specifico, parliamo delle azioni Unipol sai anch'esse negoziabili nella Borsa di Milano Ammettiamo che il prezzo all'apertura dei mercati del lunedì sia 44,50 dollari Durante la normale attività di trading, se un trader ritiene che il prezzo possa crescere, andrà ad aprire una posizione di acquisto E nel caso in cui il prezzo dovesse crescere a 45,50 dollari, il profitto sarà di un per dollari ogni unità venduta Con il short selling, il trader può agire come un venditore, se l'aspettativa è di assistere ad un calo del prezzo, il trader aprirà una posizione di vendita per lo strumento in questione Nel nostro esempio, se il prezzo calasse a 43,50 dollari, il profitto sarà di un dollaro Per prendere i benefici il trader dovrà chiudere la posizione, ovvero sia acquistare lo strumento ad un prezzo migliore Le vendite allo scoperto nello spread betting Lo stesso concetto del short selling che abbiamo visto nel trading tradizionale è applicabile anche allo spread betting Se si ritiene che il valore di un certo strumento crescerà, è possibile scommettere, ad esempio, 10 euro per ogni pip di rialzo Tuttavia, se se si prevede che il valore dello strumento calerà, è possibile scommettere sempre 10 euro per ogni movimento di un pip al ribasso Per fare in modo che il vostro capitale sia tutelato, Avatrade offre a tutti i suoi clienti, la possibilità di operare sulla sua piattaforma attraverso un conto di trading demo, per fare pratica in totale sicurezza Le vendite allo scoperto con Avatrade Le vendite allo scoperto sono un metodo di trading ampiamente accettato e applicabile a tutti i tipi di strumenti, forex, materie prime, azioni, obbligazioni ed altro ancora Dal momento che tale operazione consente di beneficiare anche di ribassi del mercato, è importante trovare un broker che offra una solida analisi di mercato, per aiutarsi a decidere se andare lunghi acquistare o corti vendere Avatrade offre tutto o ciò e oltre 250 su cui operare Entra in Avatrade ora e beneficia del nostro Avatrade bonus Come investire in azioni Prima di iniziare ad approfondire, è importante sottolineare che nel trading azionario tradizionale si acquistano frazioni di un'azienda, per quanto piccola Maggiore è il numero di azioni, maggiore sarà la propria effetta e di azienda Esistono migliaia di azioni per le aziende quotate in borsa, ma solo alcune possono essere etichettate come le migliori azioni da comprare, e molte sono inserite o tolte dai listini ogni giorno Avere quotidianamente accesso alle notizie finanziarie è vitale per poter essere sempre in prima linea nelle operazioni di mercato Il valore di un'azione dipende da un'ampia gamma di fattori I fondamentali dell'azienda, le problematiche geopolitiche, l'inflazione, la disoccupazione, la tassazione e tanti altri ancora Tutti questi fattori concorrono, e spesso viaggiano in direzioni diverse, per determinare il prezzo delle azioni di un'azienda I principali fattori a decidere il prezzo delle azioni, tuttavia, sono speculazione e percezione Più persone credono che il prezzo di un'azione salirà o scenderà, più è probabile che spingano di fatto quel prezzo ad aumentare o a scendere Esiste un modo per poter sperimentare senza rischiare il proprio capitale investito? Certo che esiste Noi di AvaTrade ti diamo l'opportunità di aprire un conto Forex Demo, per poterti esercitare e capire come funziona il trading online Che cos'è un'azione? Nel mondo della finanza un'azione rappresenta una quota della proprietà di una società Quindi se per esempio la società decima, quotata per un valore di 100 milioni di euro, emette 10 milioni di azioni Il valore di ogni singola azione sarà di 10 euro, 100 barra 10 L'andamento delle azioni, chiamate anche titoli azionari o semplicemente titoli, dipende dall'andamento della società Se questa rilascia dati positivi, come aumento vendite, utili oppure sentiment generale, e allora il prezzo delle azioni salirà Il motivo per cui le società mettono azioni in borsa è principalmente quello di raccogliere capitale da reinvestire Prezzo di acquisto e vendita di azioni I termini tecnici usati nel mondo della finanza per definire l'acquisto o vendita di azioni sono e lettera e e denaro Prezzo lettera È il prezzo di acquisto di un'azione, in borsa è sempre superiore a quello di vendita in modo da favorire le operazioni di vendita e acquisto, in inglese ask price Prezzo denaro È il prezzo di vendita di un'azione, in inglese BID price Il differenziale denaro lettera, detto spread in inglese, è praticamente il costo della transazione acquisto-vendita In un mercato ad alta volatilità è difficile stabilire con esattezza il prezzo in quanto questo si muove velocemente Per avere la certezza del prezzo si può immettere un ordine di stop o limite quando si immette l'ordine definendo così il prezzo preciso Acquista le azioni delle principali aziende al mondo Avatrade offre più di 100 azioni, tra cui Azioni Apple Azioni Tesla Azioni Telecom Azioni Unicredit E tantissime altre Scopri di più su tutte le azioni che offriamo tra i nostri strumenti finanziari Quali sono i vantaggi del trading di CFD di azioni? Il CFD trading in azioni è diverso dall'investire in azioni Con i CFD acquisto il sottostante dell'azione, ossia un prodotto derivato il cui valore deriva dal titolo del sottostante Per esempio se il titolo trentesimo ha un rialzo in borsa il CFD del titolo trentesimo avrà allo stesso modo un rialzo nel suo valore I vantaggi di negoziare CFD azionari invece delle azioni stesse sono Possibilità di fare trading anche sui ribassi Posso aprire posizioni short se penso che il titolo calerà Con le azioni si guadagna solo se il titolo sale Uso della leva finanziaria Non sono necessari grossi capitali Con la leva finanziaria posso effettuare operazioni con un valore di capitale molto superiore di quello che effettivamente investo La differenza principale tra investire in azioni e fare trading di azioni sta nella tempistica dell'operazione È raro che un'azione dia risultati in tempi brevi, generalmente ci possono volere mesi o addirittura anni prima di avere un guadagno Ma tempi lunghi sono sempre difficili da analizzare perché possono sempre esserci imprevisti a livello politico ed economico sia su scala nazionale che internazionale che possono interferire sul prezzo I CFD di azioni invece sono pensati per periodi molto più brevi, già in pochi secondi è possibile aprire e chiudere una posizione Perché il trading di CFD è più semplice Facendo trading di CFD su azioni come Google, Coca-Cola, Apple o Barclays non acquisti parti di un'azienda Firmi invece un contratto CFD con il broker online Che stabilisce che ti verrà pagata o sottratta la differenza di prezzo tra il prezzo d'entrata e il prezzo d'uscita dell'operazione I prezzi cambiano di continuo, ma i trader possono sempre approfittare di queste fluttuazioni Anche in un mercato al ribasso Dato che non prendi possesso dell'asset su cui fai trading la leva è di 20 e un minuto, con un piccolo investimento, cioè, puoi fare trading su volumi di azioni molto maggiori Non va dimenticato che il trading di CFD sulle azioni ha anche dei contro, e si consiglia di fare trading comunque in modo responsabile Come si guadagna con il trading di azioni? Il guadagno con il trading di CFD azionari può essere dato Dalle operazioni di compravendita positive, vendo ad un prezzo maggiore di quello di acquisto Dal dividendo societario, una rendita che la società rilascia ai propri azionisti su base semestrale annuale, il dividendo non è sempre garantito La piattaforma di trading è fondamentale Uno degli aspetti più importanti del trading di azioni è la piattaforma di trading utilizzata Su Avatrade trovi alcune delle piattaforme di trading più solide, potenti e innovative sul mercato Una fra tutte, la Metatrader 4 Download Potrai usare vari grafici, funzionalità di gestione e altre funzioni per migliorare notevolmente la tua esperienza di trading complessiva Inoltre avrai sempre sotto mano il tuo portafoglio di azioni, indici, forex e commodity I nostri trader sono sempre aggiornati grazie alle notizie, alle risorse formative e ai commenti al mercato, che ti terranno informato sulle ultime notizie in fatto di tendenze e movimenti del mondo delle azioni Ora che sai come fare trading di azioni online su Avatrade, registrati ora e apri un conto Forex demo Saremo felici di ricompensarti con un bonus trading di benvenuto fino a 10.000 euro al momento della registrazione Analisi tecnica Nei primi anni del 900 Charles Dow ideò uno dei più importanti approcci sull'investimento finanziario, l'analisi tecnica Attraverso la teoria di Dow si introdussero all'inizio del XX secolo, concetti finanziari oggi indispensabili per comprendere l'andamento e le tendenze del mercato e dei suoi prezzi Oggi intendiamo per analisi tecnica quella scienza che tenta di comprendere la psicologia delle masse degli investitori, attraverso l'andamento del mercato, dei suoi obiettivi di prezzo e delle tendenze, di conseguenza capirne i punti d'entrata ed uscita propensi al guadagno L'analisi tecnica è considerata in parte come una scienza inesatta, che va interpretata, poiché non fornisce risultati che possono essere quantificabili né quantomeno numeri precisi L'analisi mira per lo più all'osservazione di grafici, dei prezzi e dei volumi, cercando di cogliere i segnali di tendenza per capire quando acquistare, vendere o eventualmente mantenere la propria posizione Questo è uno dei motivi per il quale l'analisi tecnica viene integrata con l'osservazione e l'esperienza di un trader Dunque bisogna capire Con quale mercato interagire Qual è il suo andamento Analizzare il suo storico Una volta focalizzati tutti i punti è possibile integrare le informazioni dell'analisi tecnica, per uno studio efficace di mercato Il grafico di prezzo e la sua interpretazione, time frame e trend I grafici di prezzo sono comunemente rappresentati attraverso un modello detto EA candela giapponese, e Marubotsu Line, utile per capire l'andamento del prezzo a seconda dell'unità temporale considerata Nel lato sinistro della tabella è rappresentata una candela decrescente, con il prezzo di chiusura più alto rispetto a quello di apertura, il che significa che nell'unità temporale rappresentata dalla candela, si ha avuto un crescita di prezzo Viceversa per il lato destro della tabella, dove la candela è decrescente in quanto il prezzo di apertura è più basso rispetto a quello di chiusura, causandone un abbassamento Upper shadows e lower shadows rappresentano l'andamento che il prezzo ha avuto durante la giornata, con i rispettivi massimi e minimi Solitamente le candele sono rappresentate con colori diversi sulla tabella, il colore verde rappresenta le fasi di crescita o rialzo, diverso il colore rosso che ricorda meglio le fasi di ribasso Per real body si intende l'intervallo, detto range e tra il prezzo di chiusura e il prezzo d'apertura Per un'accurata lettura e interpretazione del grafico bisogna scegliere un time frame da osservare Intendiamo per time frame l'intervallo di tempo presente su una candela, ovvero quanto tempo viene condensato su una candela, un giorno, un mese, un anno Più è elevato il time frame, maggiore saranno i dati derivati dal grafico e di conseguenza, più attendibili Per un corretta analisi interpretativa di un grafico si consiglia una procedura detta a escala e ovvero, si parte da un'analisi del TF più ampia per poi scendere al dettaglio sia esso un giorno o un paio d'ore I prezzi seguono sempre un andamento oscillatorio Le oscillazioni sono dovute proprio perché, dopo un impulso ad aumentare si ha sempre un ritracciamento in diminuzione La tendenza di un prezzo ad aumentare o diminuire è detta appunto, trend L'andamento di un prezzo può essere di Tendenza crescente, uptrend, quando massimi e minimi sono sempre più alti Tendenza decrescente, downtrade, avviene quando massimi e minimi saranno sempre più bassi Tendenza neutrale, trading range, quando avvengono delle oscillazioni attorno ad una linea orizzontale, il prezzo M Cosa sono i supporti e le resistenze? Una corretta analisi In analisi tecnica i supporti e le resistenze sono da sempre uno degli argomenti portanti della materia Entrambi rappresentano i livelli di prezzo che vengono percepiti dal mercato, offrendone un'opportunità di trading Entrando di più nello specifico, possiamo definire i supporti e le resistenze come una retta, sia essa orizzontale che inclinata, e sulla quale il prezzo è rimbalza e ossia viene toccato più volte invertendo la propria direzione I supporti sono intesi come aree nelle quali il prezzo, dopo una fase di ribasso, è rimbalzato più volte invertendo la direzione Viceversa Le resistenze sono aree in cui il prezzo, dopo una fase di crescita, viene respinto più volte verso il basso invertendo la direzione Immaginate se un prezzo viene toccato dall'alto, questo scende toccando un supporto, per poi rimbalzare e di nuovo su Questo significa che quel livello di prezzo non è stato violato Simile, ma con procedimento inverso, è la resistenza, dove il prezzo sale e arriva al livello della resistenza ci rimbalza sopra per poi riscendere Maggiore sarà il rimbalzo di un prezzo su una resistenza barra inversa supporto e più significativo sarà il suo valore Da questo possiamo intuire un efficace indicatore, attraverso il supporto, un buon punto d'acquisto mentre per la resistenza, un buon punto di vendita È importante ricordarsi, inoltre, che l'affidabilità di un supporto o resistenza è maggiore all'aumentare dell'unità di tempo in cui vengono individuati, time frame, e ecco perché è preferibile consultare i grafici giornalieri piuttosto che quelli orari Tracciare supporti e resistenze Per tracciare un supporto si basti individuare ed unire due o più punti di minimo che siano stati toccati dal prezzo Tracciata la linea sulla tabella è possibile notare come il prezzo rimbalzi su essa più volte Un procedimento simile avviene per tracciare la resistenza, in questo caso bisogna unire uno o più punti di massimo toccati dal prezzo, a seconda dell'asse scelto In entrambi i casi si deve tener conto di un'eventuale rottura Ovvero la possibilità che una volta tracciato il supporto, il prezzo possa scendere ancora di più rispetto all'asse tracciato, viceversa per la resistenza È intuibile che quando un prezzo rompe l'asse della resistenza, questo ha più probabilità di avere un movimento rialzista maggiore Nel caso rompe a ribasso un supporto via un movimento ribassista Come inserire in MT4 supporti e resistenze La piattaforma MetaTrader 4 è progettata per rendere il trading più efficace ed automatico La MT4 rende più veloce le operazioni di ordine in modo tale che il trade venga concluso con tempi più rapidi Uno dei benefici offerti dalla MT4 è quello di offrire la possibilità anche ai trader alle prime armi Di progettare sin dalla sua prima fase, un algoritmo di trading Ora All'interno della piattaforma AvaMetaTrader sono presenti strumenti che permettono sia analisi tecniche che grafiche Una volta presa in esame la tabella che si vuole analizzare, è possibile scegliere degli indicatori, delle linee e dei canali Per chi voglia identificare i livelli di supporti e resistenza è consigliabile utilizzare delle linee orizzontali, affinché si possa ottenere un'analisi tanto efficace quanto efficiente Trend del mercato Forex Vi sono tre tipologie fondamentali di trend Uno di breve termine Due intermedio Tre di lungo termine In primo luogo devi stabilire che tipo di trader investitori sei Devi decidere se mantieni le tue posizioni per un lungo periodo o se compri e vendi in breve tempo Tale decisione determinerà quali grafici utilizzare I trader giornalieri o coloro che effettuano investimenti rapidi in entrata e in uscita utilizzeranno i grafici e del giorno e infra giornalieri maggiormente rispetto agli investitori che comprano e mantengono le loro posizioni per lunghi periodi, come ad esempio nello spread BTP Bund Livelli di supporto e di resistenza Un livello di supporto potrebbe essere il punto più basso della giornata precedente Il livello di resistenza potrebbe essere il punto più alto della giornata precedente, meglio conosciuto come picco Dopo che un livello di resistenza è stato rotto, di solito diventa un livello di supporto se lo strumento su cui si sta facendo trading online Italia perde nuovamente di valore Se il livello dello strumento si abbassa ulteriormente e rompe il livello di supporto questo diventa il nuovo punto minimo Al contrario, se il livello dello strumento aumenta oltre il livello di resistenza, questo diventa il nuovo punto più alto Rintracciamenti I rintracciamenti sono delle percentuali Durante una giornata qualsiasi di apertura dei mercati lo strumento che si sta osservando o sul quale si sta investendo di solito rintraccia l'andamento delle negoziazioni della giornata precedente Non importa se sono al rialzo o al ribasso Il rintracciamento usato più comunemente è 50% Inoltre vengono usati i livelli 1 terzo, 38% e 2 terzi Linee di tendenza, trend line Il modo più semplice per iniziare un'analisi tecnica consiste nell'apprendere e applicare le linee di tendenza, trend line La prima cosa da fare è disegnare una retta che unisce due punti del grafico Per mostrare una linea di tendenza rialzista collegare con una retta due punti minimi, mentre per mostrare una linea di tendenza al ribassista unire tra loro due picchi Si osserverà che di solito il mercato prezzo si ritirerà verso una linea di tendenza prima di recuperare un trend Parlando di trend, non possiamo non citare i grafici delle azioni Le azioni sono uno di quei trend che difficilmente conoscono bruschi cambiamenti Ad esempio, vi basterà cercare parole come azioni Apple, per rendervi conto della portata del fenomeno Quando il prezzo rompe una linea di tendenza, quella è la fine di un trend Quanto più lunga è una linea di tendenza tanto più essa è stata testata e ha maggiore importanza Si noti che una linea di tendenza diventa valida quando il mercato la tocca per tre volte Medie mobili Quando si stanno cercando segnali di acquisto o di vendita si prendono in considerazione le medie mobili Queste medie indicano se un trend esistente è ancora attivo Attenzione, questi strumenti statistici non consentono di prevedere variazioni di trend I trader di solito utilizzano due medie mobili Gli spostamenti al di sopra e al di sotto delle medie mobili a 20 e 40 giorni sono molto comuni Le medie mobili a 5 e 20 giorni sono molto usate da coloro che effettuano negoziazioni rapide Oscillatori Per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto vengono comunemente usati gli oscillatori Essi avvertono spesso un trader che un mercato è salito o sceso troppo e che un'inversione di tendenza è imminente Il relative strength index RSI, o indice di forza relativa, e lo stocastico sono gli oscillatori più comuni usati dai trader Questi oscillatori possono assumere valori compresi fra 0 e 100 RSI, se supera il valore 70 indica una situazione di ipercomprato Se il valore è inferiore a 30 indica una situazione di ipervenduto Stocastico, se il valore è 70 indica una situazione di ipercomprato, mentre se il valore è 20 indica una situazione di ipervenduto Cos'è il trading simulato? I mercati di trading attraggono ogni giorno nuovi trader, alcuni vi rimangono per qualche anno e altri invece effettuano un'operazione di trading online a breve termine guadagnando molto e poi smettono Comune a tutti i nuovi trader è una comprensibile esitazione, mista a preoccupazione di perdere denaro Se è vero che ogni tipo di trading presenta dei rischi, è altrettanto vero che i broker online offrono diversi strumenti a supporto dei trader principianti per sviluppare competenze e metodi Tipo gli Forex Expert Advisor o la possibilità di fare pratica su realistici conti Forex Demo Uno dei più famosi però è il paper trading, conosciuto al pubblico italiano come e-trading simulato, anche se il termine non è così comune Con questi termini ci si riferisce più in generale a quello che i trader online conoscono come conti demo o di prova Quello che AvaTrade si sente di consigliare a tutti i neofiti, sono investimenti a basso rischio Ovvero, investimenti dove la volatilità è pari allo zero e non ci sono brutte sorprese Tutto questo esiste e sono gli investimenti in azioni borsa italiana nella borsa di Milano Prendiamo ad esempio una delle case automobilistiche più famose al mondo che non conosce crisi, le azioni Ferrari Provatele sul vostro conto demo Perché scegliere un conto demo? I conti demo sono ampiamente diffusi tra i trader principianti che desiderano fare pratica e imparare a fare trading prima di operare con denaro reale Tra gli utenti dei conti demo troviamo anche trader più esperti, che scelgono di aprire conti demo per testare nuove strategie o far pratica con nuovi canali di trading, come investire negli indici di borsa In questo modo i trader possono imparare a conoscere il mercato, ma, cosa ancora più importante, possono imparare a conoscere se stessi come trader Inutile sottolineare che questo è uno strumento di indubbia utilità nel mondo del trading Il termine è paper trading e deriva dalla borsa, dove gli investitori che volevano far pratica scrivevano i propri investimenti su un foglio, andando poi a seguire i movimenti di mercato Quali benefici si possono ottenere? Un conto demo consente ai trader alle prime armi di provare a fare trading con un conto che sembra in tutto e per tutto un conto di trading online reale, come quelli usati dai trader Gli utenti dei conti demo ricevono un importo di denaro virtuale per iniziare e possono fare trading acquistando e vendendo posizioni, ad esempio sugli asset più stabili e sicuri come le azioni Come per i conti reali, i conti demo riportano i movimenti di mercato a video, per consentire ai trader di decidere se mantenere la posizione o liquidarla Alla fine della giornata sarà quindi possibile valutare le azioni intraprese, imparare da esse e prepararsi a fare trading su un conto reale Per gli utenti di conti demo è importante non solo fare pratica, ma anche poter analizzare retrospettivamente le proprie azioni e imparare da esse, soprattutto prima di avventurarsi nel trading su un conto reale Si tratta di qualcosa di importante anche per i trader più esperti, che magari vogliono esercitarsi in un ambiente di trading simulato per qualsiasi ragione Come ad esempio verificare alla fine della giornata se le operazioni che si desidera effettuare siano vantaggiose come sperato Detto ciò, alcuni conti demo non usano informazioni aggiornate in tempo reale, ma operano con un ritardo di 15-20 minuti, per non consentire alla concorrenza di utilizzare i dati Altri utilizzano dati fittizi, ma l'obiettivo di base rimane il medesimo, ovvero sia consentire ai trader di essere pronti per operare sul mercato del forex Sul conto Demoava Trade Act le informazioni sono visualizzate in tempo reale e i prezzi forniti sono accurati Questo strumento è molto comune ed ampiamente utilizzato nel mondo dai broker su tutti i tipi di mercati, forex, azionario, obbligazionario, di materie prime, ecc. Dal momento che il denaro presente non è reale ma virtuale, si parla talvolta di e denaro di prova, soldi del monopoli Vantaggi e svantaggi del denaro di prova Vi sonico alcuno rischi nel fare trading simulato che bisogna non sottovalutare Alcune persone sconsigliano di iniziare a fare trading con un conto di prova per diverse ragioni A dir loro, il principale motivo per non fare trading simulato è il senso di euforia che causa Dal momento che non si utilizza denaro reale, i trader possono assumersi rischi che normalmente non sarebbero disposti a prendere, accrescendo così i guadagni Le perdite, viceversa, tendono a non essere prese sul serio, dal momento che, come già detto, non si perdono soldi veri C'è anche un altro svantaggio, poiché si opera con soldi non propri, si tende a non seguire il mercato con la stessa costanza, reagendo meno immediatamente rispetto a quando si opera con denaro reale Vantaggi e svantaggi del denaro di prova Vi sono alcuni rischi nel fare trading simulato che bisogna non sottovalutare Alcune persone sconsigliano di iniziare a fare trading con un conto di prova per diverse ragioni A dir loro, il principale motivo per non fare trading simulato è il senso di euforia che causa Dal momento che non si utilizza denaro reale, i trader possono assumersi rischi che normalmente non sarebbero disposti a prendere, accrescendo così i guadagni Le perdite, viceversa, tendono a non essere prese sul serio, dal momento che, come già detto, non si perdono soldi veri C'è anche un altro svantaggio, poiché si opera con soldi non propri, si tende a non seguire il mercato con la stessa costanza, reagendo meno immediatamente Perché fare trading simulato? Visto e considerato quanto sopra, viene da chiedersi perché i trader principianti dovrebbero quindi fare trading in modalità simulata Vale veramente la pena aprire un conto demo prima di operare sul mercato reale? La risposta è sì, a condizione che si sappia come operare in modo consono Seguendo alcune semplici regole di base si può aumentare sensibilmente l'efficacia di un conto demo Consigli principali La prima regola è di trattarlo come un vero e proprio conto reale, come se il denaro con cui si opera fosse reale Questo non solo farà fronte al principale ostacolo dei conti demo, ma agevolerà la transizione da conto demo a conto reale, dal momento che le azioni saranno le stesse Il trading simulato può sembrare semplice, ma c'è una cosa importante da considerare Il trading reale comporta tante emozioni, il che può essere positivo, dal momento che le operazioni sono più seguite e focalizzate sul mercato, ma questo può avere anche conseguenze negative Nel trading emotivo le emozioni prendono il sopravvento sulla ragione e si tende ad operare senza fare ricerca, finendo così per perdere denaro Tali emozioni non caratterizzano generalmente il trading simulato su conti demo, proprio per la sua natura, ma fin tanto che si tiene ben a mente la differenza, la transizione tra trading demo e reale non potrà che essere di successo Un altro suggerimento è quello di imparare il più possibile Suggeriamo vivamente di fare pratica con il conto demo, leggendo articoli e blog formativi sul mercato che si desidera negoziare Una volta compreso il funzionamento della piattaforma, il tempo e la pratica ti prepareranno per il mercato reale Tuttavia, non possiamo esimerci dal ricordare che qualche ora di pratica non è sufficiente, e potrebbe dare quella sensazione pericolosa di euforia di cui abbiamo parlato prima Sapere come funziona la piattaforma non è necessariamente indice di sapere come funziona il mercato, sia su macro scala che nelle piccole sfumature Raccomandiamo di utilizzare il conto demo per qualche giorno, leggendo al contempo materiali rilevanti, per poi iniziare a fare trading a mente fresca Infine va sottolineato che il trading non è adatto a tutti Molte volte le persone si lanciano nel trading, per poi finire con un'amara delusione, senza menzionare la notevole perdita di capitali subita Raccomandiamo vivamente di aprire un conto demo per fare pratica e usare le paper trading e come specchio per chiedersi, sono pronto per fare trading? Questo mercato è adatto a me? Se la risposta è sì, è giunto il momento di aprire un conto demo Clicca qui per aprire un conto di prova e migliora le tue competenze di trading Copy Trading Il copy trading online permette a tutti i trader di cogliere le opportunità che si presentano ogni giorno sui mercati finanziari facendo affidamento sull'esperienza, l'analisi tecnica Forex in tempo reale, le capacità e la saggezza dei trader della community Con il copy trading anche i trader che non hanno tempo di stare davanti al computer e condurre ricerche sui mercati possono ottenere dei profitti facendo affidamento sui migliori di ogni asset class I vantaggi del copy trading Il vantaggio principale del copy trading è che qualunque trader, a prescindere dal proprio livello di conoscenza dei mercati finanziari, può investire diverse quote seguendo semplicemente i trader di maggior successo, pur mantenendo sempre il controllo del proprio portafoglio I vantaggi del copy trading sono però molteplici I trader principianti possono approfittare delle opportunità di mercato, imparando strada facendo con uno dei migliori Forex broker I trader esperti possono risparmiare tempo di analisi e ricerca, copiando trader con strategie e profili di rischio simili È possibile diversificare il proprio portafoglio di e-tradere e, di conseguenza, diversificare anche gli asset su cui si opera, tra cui Forex, materie prime, azioni, anche le più blasonate come le azioni Apple, indici e molto ancora Offre una dimensione social ad un'attività storicamente individuale e personale, con la possibilità di condividere opinioni, strategie, soluzioni, autocartist in italiano ed esperienze su forum e sulla piattaforma di copy trading in maniera del tutto gratuita I trader mantengono il controllo sul proprio portafoglio e sul proprio denaro Essere sempre aggiornati sugli ultimi trend di mercato Ad esempio, sulla quotazione Bitcoin Software di AvaTrade per il copy trading Nel rispetto della sulla filosofia, AvaTrade offre un'ampia offerta per fare trading, sia da desktop che in mobilità tramite l'app di copy trading, perché sappiamo che il tempo è denaro ed è importante poter sfruttare qualsiasi momento a disposizione, ovunque ci si trovi Con AvaTrade è possibile sfruttare le diverse funzionalità di ogni software per fare copy trading ZuluTrade è una piattaforma facile da usare di social trading che rende il trading Forex più accessibile, grazie al sistema di trading peer-to-peer di ZuluTrade ZuluTrade è disponibile anche come app per mobile MirrorTrader è una piattaforma flessibile che permette di fare trading in modalità automatica, semi-automatica e manuale grazie al supporto dei fornitori di strategia MQL5 Signal Service Un servizio di segnali con una delle community di social trading automatizzato più grande al mondo, integrato nell'MT4 Download di AvaTrade Come fare copy trading con successo Una volta aperto gratuitamente il conto su AvaTrade e averlo alimentato grazie ai numerosi metodi di pagamento disponibili, non devi far altro che sfruttare il tuo conto ZuluTrade o aggiungere la funzione sul tuo conto AvaTrade esistente Dopo aver aperto il conto trading sarai subito pronto per fare trading e copiare i trader di maggiore successo Se non ti senti ancora pronto, puoi sempre esercitarti aprendo un conto DemoForex, per salvaguardare il tuo capitale e far pratica È possibile diversificare il proprio investimento sul capitale umano di social trader come te sulla base di diversi fattori, quali la propensione al rischio, l'andamento storico di trading, il drawdown massimo, i tipi di asset negoziati e molto altro ancora Gestione del rischio Ricorda che è opportuno mantenere il controllo del proprio portafoglio e che è sempre possibile interrompere la copia di un investitore o di un certo investimento Consigliamo sempre di adottare strumenti adeguati di gestione del rischio tramite un'opportuna diversificazione e tramite l'utilizzo della barra di valutazione del rischio presente nello ZuluTrade che permette di definire il rischio auspicato per l'intero portafoglio, oltre che impostazioni particolari per identificare i trader più compatibili con il proprio profilo Le differenze tra copy trading, mirror trading e social trading Il mirror trading è una forma di investimento che esiste da decennie, tramite la piattaforma Mirror Trader di Ava, è oggi possibile copiare le operazioni di altre persone con una maggior flessibilità, ovvero in modalità automatica, semi-automatica o manuale Con il copy trading di ZuluTrade è possibile seguire in tempo reale i trader a miglior performance e cercare i trader che più si adattano al proprio profilo di rischio che operano nei mercati di maggior interesse Il social trading aggiunge invece una dimensione più social, permettendo di seguire, copiare e ascoltare le opinioni di altri trader proprio come sui più comuni social al fine di realizzare un portafoglio di trading che fa leva sulle conoscenze e l'esperienza delle masse Fai trading ora su AvaTrade grazie alla flessibilità offerta dalle diverse opzioni di copy trading, investi sulle persone e realizza un portafoglio remunerativo in pochi semplici passi Opzioni vanilla Da non confondere con le opzioni binarie, le opzioni vanilla in alternativa al trading tradizionale, danno la possibilità di comprare o vendere, una coppia di valute entro una data specifica a un prezzo prestabilito Sono considerate un tipo di investimento diverso da quello dello scambio di valute, scopri cos'è il Facendo trading di opzioni vanilla, non solo il trader ha la possibilità di controllare lo strumento e l'importo con cui fa trading, ma anche quando e a che prezzo intende investire Le opzioni infatti possono essere negoziate con orizzonte temporale giornaliero, settimanale, mensile o anche annuale A onor del vero, va detto che anche aprendo un semplice conto Demoforex è possibile usufruire degli stessi identici benefici di un conto reale Questo permette a tutti di poter provare tutti i servizi, senza andare ad intaccare minimamente il capitale I termini delle opzioni vanilla Euro dollaro options expiring 2018-04-1230 days Euro dollaro 1.2387 Sterline inglese dollaro 1.3962 Dollaro yen 106.48 USD CAD 1.2976 USD CHF 0.9440 Audi USD 0.7847 NZD USD 0.7320 Euro sterline inglese 0.8872 Euro yen 131.89 EUR CAD 1.6073 EUR CHF 1.1693 EUR Audi 1.5785 Sterline inglese yen 148.67 GBP CAD 1.8116 GBP CHF 1.3180 GBP Audi 1.7792 USD CNHA 6.3264 XAU SD 1326.5 VOLS USD PIPs EUR PIPs EUR PIPs EUR Percento ON 1 W 2 W 1 M 2 M 3 M 6 M 12 M PUT OPTIONS COOL OPTIONS DELTA PRICE STRIKE PRICE DELTA VOL SCHEW VEGA Meno 0.50 0.00207 1.2175 0.02628 0.85 6.81% 0.15% 0.0008 0.18 0.00246 1.2200 0.02418 0.82 0.5262 6.78% 0.12% 0.009 0.009 0.24 0.00345 0.00345 0.2250 0.02019 0.76 6.72%. 0.06%. 0.0011. Meno 0.31. 0.00478. 1.2300. 0.01642. 0.69. 6.67%. 0.01%. 0.0012. Meno 0.38. 0.00649. 1.2350. 0.01325. 0.62. 6.65%. Meno 0.02%. 0.0014. Meno 0.47. 0.00854. 1.2400. 0.01032. 0.53. 6.65%. Meno 0.01%. 0.0014. Meno 0.55. 0.01128. 1.2450. 0.00795. 0.45. 0.05. 6.68%. 0.01%. 0.0014. Meno 0.63. 0.01425. 1.2500. 0.00602. 0.37. 0.07. 6.73%. 0.07%. 0.0013. Meno 0.70. 0.01772. 1.2550. 0.00450. 0.30. 0.30. 6.82%. 0.82%. 0.15%. 0.0012. Meno 0.77. 0.02154. 1.2600. 0.00332. 0.23. 0.23. 6.91%. 0.25%. 0.0011. Implied. Volatility. Current. Wicago. Montago. Trattino. Diei. Trattino. punto punto 25. Punto 50. Più punto 25. Più punto diei. Put delta. Col delta. 6%. 7%. 8%. 9%. 10%. Disclaimer. Prices provided by. Barra barra www.googletagmanager.com barra nshtml. Id uguale gtm-n7kw8s. I termini delle opzioni vanilla sono alquanto unici nel panorama del trading online globale e pertanto è opportuno conoscerli adeguatamente prima di fare trading. Vi sono due tipi di opzioni offerte. Le opzioni call, che offrono all'acquirente il diritto di acquistare uno strumento al prezzo indicato. Le opzioni put che offrono all'acquirente il diritto di vendere lo strumento al prezzo specificato. Le opzioni call vengono normalmente acquistate dai trader che ritengono che il mercato crescerà, conosciuti anche con il termine di trader tori, mentre le opzioni put vengono acquistate da trader che speculano a favore di un calo del mercato, chiamati anche trader orsi. A prescindere dal tipo di opzione di interesse, è possibile acquistare o vendere ambedue i tipi di opzione. Per possedere un'opzione l'acquirente paga al venditore un importo definito premio. Quando il trader compra l'opzione paga un premio, mentre quando vende un'opzione lo riceve. Il premio viene determinato da diversi fattori, tra cui il prezzo corrente o il prezzo dello strumento in primis. Inoltre, dal momento che le opzioni sono contratti per la negoziazione nel futuro, vi è un elemento temporale. La data in cui è possibile esercitare l'opzione viene chiamata data di scadenza, e il prezzo a cui l'acquirente dell'opzione può scegliere di eseguila è chiamato prezzo straico o prezzo obiettivo. Le opzioni con una scadenza più lunga hanno premi più elevati rispetto alle opzioni con scadenze più corte, un po' come avviene con l'acquisto delle assicurazioni. Un altro fattore chiave nel determinare il premio è la volatilità dello strumento sottostante. Quando si ha una volatilità elevata il prezzo dell'opzione aumenta, in quanto un aumento della volatilità comporta una maggior probabilità di vedere un movimento di mercato più grande che può portare a dei profitti, potenzialmente anche prima che l'opzione raggiunga il prezzo strike. Un trader può scegliere di chiudere la propria opzione in qualsiasi giorno di contrattazione sui mercati, andando a generare un profitto in caso di un aumento del premio a causa della maggiore volatilità o di un movimento del mercato a proprio vantaggio. In merito alla volatilità, Avatrade offre a tutti i clienti la possibilità di investire in azioni. Le azioni online permettono di investire con una certa tranquillità, perché solitamente sono investimenti a lungo termine con volatilità pressoché assente e dal trend stabile. Prendiamo ad esempio una delle aziende di telecomunicazioni più importanti al mondo, quotata nella Borsa di Milano, la Telecom investire in azioni Telecom potrebbe rappresentare una garanzia di successo. Puoi verificare quello che sto dicendo, investendo con il tuo conto demo. La seguente tabella illustra l'impatto sul prezzo delle opzioni call e put se uno qualsiasi dei fattori chiave si muove al rialzo. Un aumento del opzioni call, opzioni put, prezzo spot, più prezzo strike, più data di scadenza, più più volatilità, più più le basi del trading di opzioni vanilla. Quando si acquista un'opzione put o call, il trader paga subito un premio dal saldo liquido del conto, ma i guadagni che è possibile generare sono senza limiti. Quando si va a vendere le opzioni, tuttavia, il trader riceve un premio sotto forma di accredito sul saldo liquido del conto, ma ha un'esposizione potenzialmente illimitata alle perdite qualora il mercato si dovesse muovere in direzione contraria a quella della posizione, un po' come quando ci si trova dal lato sbagliato di un'operazione spot. Per limitare tale rischio i trader possono utilizzare gli ordini di stop loss sulle opzioni, esattamente come per le operazioni spot. In alternativa i trader possono acquistare un'opzione ulteriormente e out of the money, andando così a limitare completamente l'esposizione potenziale. Acquistando le opzioni vi è un rischio limitato, in quanto l'importo massimo che è possibile perdere è quello del premio. Vendere le opzioni è un ottimo modo per generare un profitto, in quanto il trader funge in pratica da compagnia assicurativa, offrendo a qualcun'altro protezione sulla posizione. Così facendo viene incassato il premio e, se il mercato reagisce come previsto dalla speculazione, il trader tiene i profitti generati dall'assunzione di tale rischio. In caso contrario, si ha una situazione analoga rispetto alle normali operazioni spot. In entrambi i casi il trader ha un'esposizione illimitata al rischio di ribasso e pertanto può scegliere di chiudere la posizione, ad esempio con un ordine di stop loss. Tuttavia con le opzioni il trader avrà ottenuto un premio e questo lo rende un vantaggio concreto rispetto al trading spot. 1 Il primo passo da fare nel trading di opzioni è prevedere l'andamento di mercato per un dato strumento. Se il trader ritiene che un certo strumento crescerà di prezzo, esistono tre modi per esprimere tale previsione. Il primo è quello di acquistare lo strumento stesso, ovvero sia fare trading con normali contratti spot. 2 La seconda soluzione è quella di acquistare un'opzione call. Con questa strategia non è possibile perdere importi superiori al premio pagato inizialmente e la posizione può essere venduta in qualsiasi momento, rendendo questa soluzione la più sicura se si è rialzisti sull'asset. 3 La terza soluzione possibile è quella di vendere un'opzione put se il prezzo dello strumento è superiore al prezzo strike alla scadenza, l'opzione non varrà nulla e pertanto il trader potrà mantenere l'intero premio riscosso all'inizio. Esempi. Scenario. Ammettiamo che il prezzo corrente per la coppia euro-dollaro sia 1.1000. Il trader specula che la coppia crescerà di prezzo entro una settimana. Posizione spot. Nel primo scenario proposto il trader aprirà una posizione spot per 10.000 unità su una piattaforma qualsiasi con gli spread previsti. Se il prezzo dell'euro-osd cresce, il trader andrà a generare immediatamente un profitto. Opzione call. Con la seconda strategia il trader acquista un'opzione call con una scadenza ad una settimana e un prezzo strike ammettiamo di 1.1020. Una volta comprata l'opzione viene pagato il premio indicato sulla piattaforma, ad esempio, 0.0050 o 50 pip. Se alla scadenza l'euro-osd supera il prezzo strike, il trader guadagnerà la differenza tra il prezzo strike e il prezzo di mercato dell'euro-osd. Il pareggio sarà dato dal prezzo strike più il premio corrisposto anticipatamente. Tuttavia il trader potrebbe ottenere un profitto in qualsiasi momento prima della scadenza a causa di un aumento della volatilità implicita o di un movimento al rialzo del prezzo dell'euro-osd. Il guadagno, in particolare, sarà direttamente proporzionale al rialzo dell'euro-osd. Ad esempio, se alla scadenza la coppia è scambiata a 1.1100, l'opzione sarà e in the money è di 0.0080 80 pip e quindi il trader guadagnerà 80 pips meno il premio pagato di 50 pip. Viceversa, se il prezzo spot è inferiore al prezzo strike alla scadenza, la perdita massima sarà pari al premio pagato, ovvero 50 pip. Opzione put. Nel terzo caso, il trader sceglie di vendere un'opzione put. Così facendo sarà il trader ad essere il venditore e pertanto gli verrà corrisposto un premio direttamente sul suo conto. Il rischio che il trader si assume vendendo un'opzione è di sbagliarsi nella previsione di mercato, pertanto dovrà prestare attenzione nel scegliere il prezzo strike assicurandosi che l'euro-osd non scadrà sotto a tale livello alla scadenza. In altre parole, il trader deve essere abbastanza sicuro di voler acquistare l'euro-osd al prezzo strike, in quanto se il prezzo spot chiude sotto a tale livello, il venditore ha il diritto di avere una posizione e-put, sull'euro-osd al prezzo strike. In cambio dell'assumersi tale rischio, il venditore di opzioni riceve anticipatamente un premio. Se il prezzo spot chiude ad un livello superiore rispetto al prezzo strike, il trader tiene il premio ed è libero di vendere un'altra posizione put, che si andrà ad aggiungere al profitto generato dalla prima posizione. In entrambi gli esempi di trading di opzioni, il premio è definito dal mercato, così come riportato sulla piattaforma di Trading Ava Options in fase di apertura della posizione. Il livello di profitto o perdita dipende dal prezzo strike, determinato dal prezzo dello strumento. Perché fare trading di opzioni? Vi sono diversi vantaggi che spingono i trader a fare trading di opzioni. Un investimento sicuro. Prima di tutto si tratta di un investimento piuttosto sicuro, poiché per un acquirente di opzioni queste risultano molto meno rischiose di fare trading sul sottostante. Per un venditore, i rischi di ribasso sono anche in questo caso inferiori rispetto ai rischi che si corrono quando si effettua una previsione sbagliata su un'operazione spot. In quanto il venditore di opzioni definisce il prezzo strike in base alla sua propensione al rischio, ottenendo un premio che dipende dal rischio assunto. Se cerchi altri investimenti con fattore di rischio molto basso, ti consigliamo di investire in ETF. Due le opzioni richiedono un investimento iniziale in termini di tempo per imparare a conoscere il prodotto. Uno esprimere qualsiasi punto di vista, forse uno dei vantaggi più distintivi delle opzioni è quello di poter esprimere virtualmente qualsiasi punto di vista sul mercato, combinando opzioni con le put lunghe e corte con posizioni spot lunghe o corte. Se il trader è ribassista sull'USD barra GPY ma non è del tutto sicuro di tale previsione, può acquistare un'opzione put per la scadenza desiderata e stare tranquillo. A prescindere dall'andamento rialzista o ribassista dell'USD barra GPY, il trader si trova in una posizione sicura fino alla scadenza. Infatti, se la previsione risulta corretta e il differenziale tra il prezzo spot e il prezzo strike è pari almeno al valore del premio, il trader conseguirà un profitto. Una multiple strategie, come per ogni strumento, le opzioni di trading comportano rischi specifici, compreso il rischio di perdita. Tuttavia vi è una sostanziale differenza tra il trading spot e il trading di opzioni. Nel trading spot il trader può speculare solo sulla direzione del mercato, che può essere al rialzo o al ribasso. Con le opzioni, al contrario, è possibile eseguire una strategia basata su diversi fattori, quali differenziale tra prezzo corrente e prezzo strike, orizzonte temporale, trend di mercato, propensione al rischio e molto altro, consentendo così di avere un maggiore controllo del portafoglio e pertanto un maggior margine di manovra. Fare trading con AvaTrade Centro educativo, le opzioni sono un ottimo strumento per qualsiasi trader pronto a investire un po' di tempo per comprendere il loro funzionamento. AvaTrade, il miglior broker Forex, offre una sezione formativa completamente accessibile direttamente dalla piattaforma di Tradin, con analisi tecnica Forex in tempo reale. Aumenta le tue possibilità di trading, i trader esperti e aggressivi possono sfruttare le opzioni in una miriade di modi diversi. I trader principianti o coloro che preferiscono adottare un approccio più conservatore possono sfruttare strategie con opzioni lunghe che vedono l'acquisto di opzioni o spread di opzioni per entrare con un rischio limitato sul mercato. Inoltre, viene offerta la possibilità a tutti i tipi di utenti, anche grazie all'opzione di poter fare trading con Mac. Utilizzando i prodotti e gli strumenti offerti sulla piattaforma AvaOptions in modo intelligente, tale flessibilità genera notevoli possibilità aggiuntive di profitto. AvaOptions non è solo la piattaforma numero uno per il trading di opzioni, ma anche una piattaforma costruita con al centro il cliente. La piattaforma mette a disposizione di tutti i trader diversi strumenti per guidarli e assisterli passo dopo passo. Inoltre, la piattaforma è semplice da comprendere e utilizzare. In particolare, tra le possibilità di personalizzazione disponibili, il trader può definire lo stile di visualizzazione e gli strumenti in base alle proprie esigenze, per avere a disposizione una piattaforma ideale per lavorare in un ambiente orientato al successo. Il trading di opzioni rimane un mistero per molte persone. In molti scelgono di fare trading spot al posto di optare per il trading di opzioni, ma una volta scoperte le opzioni non tornano più indietro. La varietà di scelta disponibile e la possibilità di controllare tutte le variabili di un'operazione, andando così a bilanciare adeguatamente i benefici e i rischi, sono fattori allettanti che spingono i trader ad entrare in un entusiasmante mondo dove tutte le opzioni sono aperte. Registrati oggi stesso! Leva finanziaria Leva finanziaria o eleverige è lo strumento che dà la possibilità di acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto, quindi di beneficiare di un rendimento maggiore rispetto a quello derivante da un investimento diretto. Lo stesso di corso vale anche per il rischio. Calcolo leva finanziaria Leva finanziaria formula Dimensioni operazione barra leva uguale margine richiesto per l'apertura di un'operazione Esempio, data un'operazione di 1000 euro dollaro con una leva finanziaria richiesta di D200, 1, il calcolo è il seguente 1000 barra 200 uguale 5 euro I vantaggi della leva finanziaria Minimizza il capitale che il trader deve investire invece di pagare il prezzo intero di uno strumento, il trader può corrisponderne solamente una piccola parte Ammettiamo, per esempio, che il valore di una posizione al momento dell'apertura sia di 3000 dollari, invece di corrispondere l'intero importo, il trader può utilizzare una leva di 400, 1, il che significa che per ogni 400 dollari del valore originale gli viene chiesto di investire un dollaro del proprio capitale Questo significa che per questa posizione il trader dovrà corrispondere 7,50 dollari per poterla aprire Alcuni strumenti sono relativamente economici il che significa che quasi tutti i trader possono accedervi con facilità Tuttavia, altri strumenti vengono considerati più prestigiosi e, sulla base di quanto vengono scambiati sui mercati e altri fattori, hanno un costo maggiore Invece di investire grandi importi per poter entrare nel mercato, un trader può semplicemente utilizzare la leva e trarre profitto dalla oscillazione di prezzo di questi prestigiosi strumenti Tra tutti, non possiamo non citare il trading su azioni Le azioni sono assets molto profittevoli che generano scambi mondiali miliardari Prendiamo ad esempio una delle società di telecomunicazioni più importante d'Europa La telecom investire in azioni telecom rappresenta uno di quei tipi di investimenti che garantisce redditi importanti Fai pratica con il tuo conto demo Stop sebbene il trading con leva o trading con margine permetta di operare investendo in porti minori di capitale Il che può essere un grande vantaggio per molti trader, è presente anche un rischio di perdita Infatti, così come un trader può guadagnare molto di più dell'investimento iniziale Le perdite possono essere altrettanto significative È importante monitorare le proprie posizioni aperte, applicare stop loss, copy trading e altri ordini di mercato in modo tale da prevenire perdite di grande entità Il trading con leva su AvaTrade AvaTrade offre molti strumenti, e ognuno di questi ha una leva differente, che varia anche a seconda della piattaforma scelta dal trader Con AvaTrade puoi beneficiare di leve fino a 200, 1 e una leva di 400, 1 sul MetaTrader 4 La maggior parte delle coppie Forex utilizza le leve più elevate Alcuni metalli come ad esempio l'oro possono usufruire di leve fino a 200, 1 Il greggio ha una leva massima di 100, 1 Mentre altri metalli, come l'argento e il platino, hanno leve di 50, 1 Per quanto riguarda il trading Bitcoin, invece, la leva è quella massima È importante verificare la leva prevista sulla propria piattaforma di riferimento prima di procedere con l'apertura delle posizioni Inoltre, per evitare una richiesta di margine, è fondamentale avere un patrimonio sufficiente sul proprio conto, così da poter continuare ad operare indisturbati Margin Call Cos'è la Margin Call? Importante tanto quanto la leva finanziaria, la Margin Call è un funzione volta ad evitare che il conto di trading vada in verde Di infatti, se la disponibilità del conto di trading non basta per mantenere aperte le posizioni Si attiva la Margin Call ovvero la richiesta di integrazione del saldo Se viene ignorata essa comporta la chiusura automatica di tutte le posizioni sul conto Per i conti MetaTrader 4 e AvaTrade Act la Margin Call si attiva se la disponibilità tocca la soglia del 50% rispetto al saldo iniziale Come funziona la Margin Call? Immaginiamo di aprire un conto di trading investendo 10.000 euro Una volta aperta la piattaforma, dopo aver effettuato il login, potrai visualizzare Saldo Disponibilità Margine Margine disponibile 10.000 euro 10.000 euro 0 euro 10.000 euro Il saldo è la somma del deposito iniziale più i guadagni e le perdite contabilizzate IA Disponibilità è la somma del deposito iniziale più i guadagni e le perdite di operazioni in corso Il margine è l'importo richiesto per aprire una posizione Il margine disponibile disponibile è dato dalla disponibilità meno il margine Se non si hanno posizioni aperte, il margine disponibile e la disponibilità coincidono mentre il margine è pari a zero Per evitare di ricevere la Margin Call, la disponibilità deve essere sempre superiore rispetto al margine Nel caso che la disponibilità scenda al di sotto del margine e scatta la Margin Call, quindi non sarà possibile aprire nuove operazioni a meno che la disponibilità non si maggiore del margine Se le perdite continuano ad aumentare AvaTrade chiuderà automaticamente le posizioni in corso per evitare che il saldo si estingua Sulla piattaforma questi valori vengono calcolati automaticamente Cosa sono i Pips? Un PIP, abbreviazione di percentage in point o price interest point, è il più piccolo movimento numerico di prezzo nel mercato del Forex Generalmente quando un prezzo varia in borsa ci si riferisce ad una variazione di PIP o pipette Dal momento che la maggior parte delle coppie viene quotata fino alla quarta cifra decimale, 0.0001 euro, la variazione più piccola si riferisce all'ultima cifra dopo il punto decimale, per esempio 0.0001 euro, ovvero a L1 indicato nell'esempio Mentre un PIP si riferisce alla quarta cifra decimale, un pipette si riferisce alla quinta cifra decimale Per la maggior parte delle coppie un PIP equivale allo 0.01% o alla centesima parte di 1%, questo valore è comunemente conosciuto anche come BPS Un punto base BPS si riferisce ad una comune unità di misura dei tassi di interesse e delle percentuali finanziarie Un BPS equivale a 1 barra 100 di 1% o 0.01% 0.0001, e denota la variazione percentuale del tasso di cambio Calcolare il valore di un PIP e la dimensione della posizione Come indicato, un PIP corrisponde alla variazione di un punto della quarta cifra decimale del tasso di cambio di una coppia valutaria Tenendo a mente questa definizione, vediamo come calcolare il movimento di un PIP, così come i movimenti di prezzo Calcolare i movimenti di prezzo nel Forex Ora che abbiamo chiaro cos'è un PIP, scopriamo assieme quanto possiamo guadagnare o perdere per ogni movimento di prezzo La dimensione della posizione influenza quanto possiamo guadagnare o perdere Con lo stesso movimento di prezzo in PIP, posizioni più grandi avranno maggiori conseguenze sul tuo saldo Possiamo calcolare il controvalore in modo semplice Dimensione della posizione X0.0001 uguale valore monetario di un PIP Vediamo un breve esempio con la coppia euro-dollaro Ammettiamo di aprire una posizione della dimensione di 10.000 unità e calcoliamo il valore di un PIP in questo modo 10.000, unità, X0.0001, 1 PIP è uguale 1 per euro PIP Quando si apre una posizione di acquisto e il mercato è a favore Per ogni movimento di 1 PIP si ha quindi un guadagno di 1 euro, e viceversa nel caso di una posizione di vendita Se i mercati e il trend si muovono in direzione opposta rispetto alla tua scelta, sia essa di acquisto o vendita, ci sarà una perdita di un euro per ogni PIP di movimento L'aumento o la diminuzione del numero di unità avrà lo stesso effetto sul valore del PIP Avatrade mette a tua disposizione una guida completa e 100% gratuita e per imparare le basi del Forex e il calcolatore di PIPs I PIP con le valute maggiori I valori dei PIP variano a seconda della valuta, in quanto dipendono da come viene scambiata la valuta stessa Su alcune piattaforme di trading, anche se raro, è possibile registrare un movimento di prezzo in incrementi di mezzo PIP Mentre il valore di un PIP rappresenta lo standard per la maggior parte delle interfacce Tuttavia, questo dipende dalla piattaforma di trading e dal fil di prezzo In quanto esistono sistemi che mostrano 4 cifre decimali PIP ed altri che mostrano 5 cifre decimali pipette Le valute maggiori scambiate da investitori e trader sono lo yen giapponese GPY, la sterlina britannica GBP, il dollaro statunitense USD, l'euro, EUR, e il dollaro canadese CAD Queste maggiori valute possono essere accoppiate tra loro o altre valute più esotiche Quando si fa trading è importante tenere monitorati gli intervalli medi giornalieri nel Forexum per poter valutare la volatilità del mercato valutario Se le coppie non dovessero raggiungere gli intervalli stimati non si generano profitti, e si dovranno impostare obiettivi più bassi Avatrade raccomanda di monitorare attentamente gli intervalli medi giornalieri di interesse Qui di seguito sono riportati i movimenti di prezzo medi in PIP per sessione di trading delle coppie maggiori Coppia Forex New York Tokyo Londra Euro-dollaro 92 76 114 Sterlina-inliese-dollaro 99 92 127 Dollaro-yen 59 51 66 Audi-usd 81 77 83 NZD-usd 70 62 72 USD-CAD 96 57 96 USD-CHF 83 63 67 67 102 EUR-YEN 107 107 129 129 Sterlina-inliese-yen 132 118 118 Aude-in confianza-e-yen 129 134 148 164 134 Aude-JP-Y 103 Registrati ora e inizia a conoscere le basi del trading con una guida passo passo. Scalping. Si tratta di una strategia di day trading molto rapida, nella quale le posizioni vengono aperte e chiuse nel giro di secondi o minuti. I trader che fanno scalping acquistano e vendono molte posizioni, con l'obiettivo di generare un profitto sulla base dei più piccoli movimenti di prezzo intraday. Uno dei vantaggi dello scalping è che i trader non incorrono in spese extra per tenere aperte le posizioni durante la notte, commissioni di rollover. I trader hanno obiettivi di profitto specifici e gli ordini di stop vengono utilizzati per gestire l'entrata e l'uscita dal mercato, dal momento che i trader che utilizzano questa strategia aprono diverse operazioni simultaneamente. Data la natura rapida dello scalping, non esistono pattern né analisi. Tuttavia, i trader utilizzano i grafici a 1 o 5 minuti per prendere le proprie decisioni in modo rapido. Day trading. Come dice la parola stessa il day trading indica l'acquisto e la vendita di asset nel corso della stessa giornata. Questa tipologia di trader genera i propri profitti tramite l'utilizzo della leva, che permette loro di gestire capitali più elevati e trarre vantaggio degli strumenti soggetti ad elevata liquidità anche a fronte di lievi oscillazioni di prezzo sui mercati. Il day trading rappresenta un'altra strategia dove non si incorre in commissioni di rollover, dal momento che tutte le operazioni vengono aperte e chiuse nella stessa giornata. Dal momento che il day trading è rischioso ma offre elevati profitti, i trader che utilizzano questa strategia devono avere le idee chiare su due fattori importanti, la liquidità e la volatilità. La liquidità dei mercati permette di entrare e uscire dalle operazioni al miglior prezzo. In che modo? Si prende in considerazione la differenza tra il prezzo ASC e il prezzo BID, lo spread, un basso slippage e si opta per spread ridotti. La volatilità è data dalla variazione del prezzo prevista durante il giorno, durante le ore di attività dei day trader. Maggiore è la volatilità, maggiore è anche il potenziale profitto, così come le potenziali perdite. Le seguenti tecniche possono essere utili per migliorare come day trader. Identificare possibili ingressi, i grafici a candela intraday, le quotazioni ECN e le notizie in tempo reale sono ottimi indicatori per entrare nei mercati al momento giusto. Identificare prezzi obiettivo Identificare il prezzo obiettivo migliore per entrare nei mercati è fondamentale per assicurarsi di generare un profitto al momento della chiusura dell'operazione. Stop loss Il trading in marginazione aumenta il rischio ed espone il trader a rapidi movimenti di prezzo. L'utilizzo degli ordini di stop loss limita le perdite su ogni operazione. Superare le probabilità Valutare la propria performance seguendo con attenzione la propria strategia invece di inseguire a tutti i costi un profitto. Swing trading Lo swing trading si riferisce ad uno stile di trading che tende verso il trading fondamentale, in cui le posizioni vengono aperte e mantenute aperte per giorni o settimane. Ciò che rende l'operazione di natura più fondamentale è che lo swing trading incorpora le variazioni dei fondamentali nel corso di più giorni e mira a generare profitti sulla base delle variazioni di mercato nel medio termine. Mantenere le posizioni aperte durante la notte ha un costo, ma le posizioni possono essere tenute aperte per diverse settimane. Gli swing trader solitamente si trovano a metà strada tra i day trader e i trend trader. I day trader aprono posizioni che durano da alcuni secondi a qualche ora, ma che non superano mai la giornata, mentre i trend trader preferiscono esaminare trend nel lungo termine studiando i trend fondamentali, che può richiedere settimane o mesi. Gli swing trader in generale tengono aperte le posizioni da un minimo di qualche giorno ad un massimo di tre settimane e vanno alla ricerca di movimenti agli estremi di determinati intervalli all'interno di tali periodi di tempo. Questo stile di trading è particolarmente apprezzato dai trader principianti che si apprestano ad entrare sui mercati finanziari, ma offre un buon potenziale di profitto anche per trader avanzati o intermedi. Trading di posizione Il trading di posizione si addice ai trader che desiderano tenere aperte le proprie posizioni per periodi della durata di mesi o anni, che non prestano attenzione alle oscillazioni di mercato nel breve termine, in quanto investono nel lungo termine e credono che le piccole variazioni di mercato si compensino nel tempo. Il trading di posizione è esattamente l'opposto del day trading, dal momento che l'obiettivo è quello di generare profitti nel lungo periodo sulla base del movimento del trend, e non della variazione minima di prezzo nel breve termine. Questo stile è consigliato per chi vuole investire in EFT. Molti trader che utilizzano questa strategia tengono monitorati i grafici settimanali o mensili per avere un'idea di dove si trova l'asset scelto rispetto al suo trend. A tal proposito, l'analisi tecnica Forex in tempo reale e l'analisi fondamentale viene utilizzata per valutare i grafici di prezzo e l'attività di mercato. Mantenere le posizioni aperte da un giorno con l'altro comporta, anche in questo caso, spese di rollover. Perché fare trading con AvaTrade? Una volta apprezzate le caratteristiche dei diversi stili di trading, potrai testarli con uno dei nostri conti Forex Demo, per capire qual è il più adatto a te, totalmente senza rischi. Accedi ai migliori materiali formativi per accrescere le tue conoscenze dei mercati e ricevi il miglior supporto 24 barra 5 punto scopri perché AvaTrade è uno dei migliori broker italiani. Ti offriamo molti strumenti di trading gratuiti, così quando deciderai di entrare nei mercati lo farai con sicurezza. Registrati ora su AvaTrade e fai trading anche tu con il broker migliore del settore. Cos'è un piano di trading? La maggior parte di noi fa dei piani nella propria vita al fine di perseguire le proprie priorità personali e avere successo. Negli investimenti di CFD online o nel Forex, o quando si vuole comprare Bitcoin, spesso la differenza tra un'operazione in profitto o in perdita è davvero sottile, pertanto saper fare le scelte giuste è di fondamentale importanza. Se non si ha un piano di trading, o di investimento, la prospettiva non può che essere di un fallimento. Alla base di un piano di trading Forex online è la definizione di una serie di regole e linee guida che possano essere d'aiuto nel raggiungere i propri obiettivi di trading. L'importanza di avere un piano di trading Entrare nel mondo del trading può far paura e nell'arco della propria carriera come trader si perderanno dei soldi mentre si cercherà di seguire l'attività e le oscillazioni di mercato. I trader tendono a sfruttare i segnali, gli indici di borsa, l'analisi tecnica Forex e o le notizie quotidiane delle azioni della borsa italiana, per seguire i pattern e le variazioni di mercato. Tuttavia, pianificare adeguatamente le proprie operazioni contribuirà a ridurre il rischio di prosciugare il proprio conto di trading. Un modo altrettanto conveniente è senza dubbio quello di conto Forex demo, per esercitasi a fare pratica, senza rischiare di perdere il capitale investito. Sicuramente, molti di voi si sono avvicinati al mondo del trading perché spinti dal guadagno facile. È chiaro che come tutte le belle cose, anche il trading online presenta dei rischi, ma che possono essere arginati e ridotti ai minimi termini seguendo semplici consigli. Solitamente AvaTrade consiglia vivamente di evitare lo spread trading e di esercitarsi sempre per tutto il tempo necessario con il conto demo che viene offerto a tutti. Inoltre, si consiglia di effettuare investimenti su asset dalla bassa volatilità, per evitare repentine sorprese. Tra gli assets più affidabili, spiccano senza dubbio le azioni online, le criptovalute come il Litecoin e le quotazioni petrolio. Investire in azioni è un tipo di investimento che difficilmente conoscerà cali di prestazione. Prendiamo ad esempio la quotazione azioni Apple. Il colosso di Cupertino è in costante ascesa e investire in esso può generare enormi profitti. Come sviluppare un piano di trading Analisi personale Assicurati di essere pronto per fare trading e di saper seguire i segnali senza esitazione. Scopri quali sono i tuoi punti di forza e le tue debolezze prima di aprire una posizione. Obiettivi di trading Obiettivi di trading Inizia con lo scrivere i tuoi obiettivi di trading e con il definire obiettivi realistici. Tieni sempre a mente e valuta i tuoi obiettivi finanziari e le tempistiche per raggiungere ciascun obiettivo di trading, assicurandoti di chiudere la posizione ogni qualvolta generi un successo, senza diventare avido. Identifica i mercati di interesse e gli orari di riferimento, seleziona il mercato su cui operare sulla base della tua conoscenza e della tua esperienza. Il mercato migliore è quello che conosci meglio. Non ha senso aprire una posizione in un mercato estero che non conosci perché si ritiene semplicemente che possa dar luogo a dei profitti. Inoltre verifica sempre gli orari di contrattazione di ogni singolo mercato, in quanto il tempismo è fondamentale quando si opera sui mercati. Definisci quanto sei disposto a rischiare. Ogni volta che apri una posizione o alimenti il tuo conto di trading, assicurati di non versare più di quanto sei disposto a rischiare. È importante non farsi prendere dalle emozioni quando si fa trading, pertanto alimenta il conto e attieniti all'importo inizialmente depositato. Controlla il tuo patrimonio tramite sistemi opportuni di gestione del denaro, detto money management. A questo punto bisogna definire quando aprire una posizione e in quale direzione, acquisto o vendita. L'analisi dei grafici o la lettura delle ultime analisi di mercato ha un ruolo fondamentale in questo processo decisionale. Definisci i punti di ingresso e di uscita. In altre parole è necessario definire i livelli di stop loss, blocco delle perdite, e take profit, presa di benefici. Lasciare un certo margine per delle correzioni può essere opportuno, tuttavia è importante farsi che le emozioni non prendano il sopravvento mentre si fa trading. Gestisci le emozioni. Non permettere che i tuoi sentimenti e le tue emozioni offuschino la tua capacità di giudizio. Gestisci il trading come una normale attività aziendale. Elementi da prendere in considerazione nel proprio piano di trading. Gli obiettivi di redditività devono essere realistici. Affidarsi ai migliori broker italiani. Come determinare la dimensione delle posizioni in relazione al budget di trading a disposizione. Tener traccia delle proprie operazioni, ovvero cosa è stato aperto e cosa è stato chiuso, sulle migliori piattaforme di trading online, cosa ha dato origine ad un profitto e cosa ha generato una perdita, ecc. Nel settore si parla di ediario di trading e questo risulta essere uno strumento particolarmente utile per valutare la performance complessiva e l'accuratezza delle previsioni che vengono fatte. Tenersi sempre aggiornati sulle notizie finanziarie del giorno. Come gestire le posizioni una volta aperte. Definizione di criteri imparziali da poter utilizzare per selezionare, aprire e chiudere operazioni. Attieniti sempre al tuo piano. Domande da porsi quando si definisce un piano. Quale motivazione si ha per fare trading? Qual è l'approccio adottato nei confronti del rischio? Quanto tempo si ha da dedicare al trading? Qual è il livello di conoscenza su cui si può fare affidamento? Perché creare un piano di trading? Per lo stesso motivo per cui quando si inizia a costruire una casa si definisce un progetto e non si iniziano a comprare mattoni e calcestruzzo senza aver prima definito le fondazioni e aver fatto i debiti calcoli di quanto denaro si andrà a spendere. Nel trading le cose funzionano in modo simile, pertanto anche se si ha già esperienza nei mercati, questa non è sufficiente per fare trading alla cieca. Il trading Forex e di CFD dovrebbe essere trattato come un'azienda, con una struttura finalizzata ad una crescita di successo. Inoltre, quando si verificano variazioni repentine sui mercati, un piano di trading sarà d'aiuto per poter tenere fede ai propri obiettivi ed evitare decisioni affrettate di cui ci si potrebbe pentire in seguito. Fare trading in modo obiettivo con un piano ben definito consentirà di avere più sicurezza in sé e di partecipare in modo meno emotivo. Tutti dovrebbero avere un piano di trading. Sia che tu ti stia prestando ad entrare nel mondo del trading o sia già un trader con una certa esperienza, è sempre importante essere preparati. Un buon piano di trading ti aiuterà in diversi aspetti, come identificare i tuoi obiettivi, organizzare la tua ricerca e trovare statistiche per il tuo trading. La decisione relativa a quale direzione prendere per essere concorde all'andamento dei mercati ti aiuterà a gestire le emozioni quando subirai una serie di perdite e ti fornirà un aiuto per riprenderti da un'operazione andata male. I mercati non scelgono i loro trader preferiti e tutti sono a rischio, nuovi o esperti che siano, e senza un piano il mercato non perdonerà. Con l'ulteriore assistenza offerta per il tuo trading quotidiano AvaTrade ti può aiutare a pianificare le tue operazioni e a valutare i rischi. Crea ora il tuo Forex conto reale e ottieni il miglior supporto 24-5. Derivati finanziari Con il trading che sta divenendo sempre più diffuso e accessibile a chiunque abbia un interesse nelle attività finanziarie, è importante che i trader abbiano a disposizione informazioni sufficienti, tipo la quotazione Bitcoin e che siano ben preparati per poter accedere ai mercati globali in sicurezza ed operare con il loro conto demo trading. I derivati finanziari esistono da molto tempo e sono conosciuti anche come derivati comuni, ma oggi è molto più semplice accedervi grazie al trading online. Cosa sono i derivati finanziari? In parole semplici, i derivati sono un contratto il cui prezzo è basato sul valore dell'asset sottostante, come un valore mobiliare o un indice. Esistono asset sottostanti di diversa natura, come azioni, valute, materie prime, obbligazioni, tassi di interesse e investire in ETF. Tipi di derivati Esistono molti derivati finanziari offerti sia over-the-counter OTC che in borsa. Il valore dei derivati è influenzato dalla performance dell'asset sottostante e dalle condizioni del contratto. I derivati utilizzati più comunemente online sono Trading CFD Il trading CFD sono dei prodotti popolari nel trading con derivati e permettono di speculare sull'aumento o calo dei prezzi di strumenti globali, tra cui azioni, valute, indici e materie prime. I CFD vengono scambiati con uno strumento che replica i movimenti dell'asset sottostante, mentre i profitti e le perdite vengono stabilite in base alla direzione dei movimenti e alla posizione presa dal trader. Uno dei CFD più comuni riguarda le azioni online. Questo tipo di asset difficilmente conosce trend negativi. Le azioni sono quasi sempre prevedibili e ben monitorabili. Prendiamo ad esempio un marchio considerato di nicchia, ma sempre più popolare e innovativo, Tesla. Le azioni Tesla rappresentano una valida alternativa agli investimenti rischiosi. Il tutto può essere verificato effettuando delle operazioni sul proprio conto demo. Contratti future Sono derivati comuni basati su un contratto di acquisto o vendita di asset, come materie prime o azioni, per il futuro ad un prezzo preconcordato. I future sono standardizzati per facilitare il trading sul mercato dei future, dove le specifiche dell'asset sottostante dipendono dalla qualità e dalla quantità della materia prima, come ad esempio le quotazioni petrolio. Contratti forward Sono strumenti finanziari basati su un accordo più informale e vengono negoziati tramite un broker che offre ai trader l'opportunità di acquistare o vendere asset specifici come le valute. Anche in questo caso il prezzo è predeterminato e viene pagato in un secondo momento. Opzioni Il trading con le opzioni sui mercati di derivati permette ai trader di acquistare, opzione call e oppure vendere, opzione put e un asset sottostante ad un prezzo specifico prima o in una data precisa senza alcun obbligo formale. E questa è la differenza principale tra il trading con opzioni e il trading di future. Swap Gli swap rappresentano un altro derivato finanziario comune utilizzato all'interno di un contratto, gli swap permettono ad entrambe le parti di scambiare sequenze di flussi finanziari per un periodo di tempo predefinito. Non si tratta di strumenti negoziati, ma piuttosto di contratti OTC personalizzati tra due trader. Perché fare trading con i derivati finanziari? Originariamente i derivati venivano utilizzati per garantire un equilibrio tra i tassi di cambio da utilizzare per lo scambio di beni e servizi su scala globale. I trader scoprirono che date le differenze tra valute e sistemi di contabilità sarebbe stato più semplice trovare un mercato di derivati comune. Oggi la ragione principale per fare trading sui derivati è rappresentata dalla possibilità di speculare e fare hedging, dal momento che i trader cercano di trarre profitto dalla variazione del prezzo degli asset sottostanti come valori mobiliari o indigi. I derivati vengono utilizzati con diverse finalità, ad esempio di copertura o di minimizzazione del rischio. Per esempio, un trader potrebbe voler trarre un profitto da un calo del prezzo di vendita di alcuni asset, posizione di vendita. Utilizzando un derivato a copertura, trasferisce il rischio associato al prezzo dell'asset sottostante ad entrambe le parti coinvolte nel contratto negoziato. Trading di derivati con AvaTrade Registrati oggi su AvaTrade e tra i beneficio dalla più ampia gamma di derivati finanziari offerti all'interno del nostro portafoglio, più di 250 strumenti, dal Forex ai CFD su azioni, materie prime e indici, calendario economico tempo reale, oltre al trading di opzioni su una piattaforma di qualità superiore e broker opzioni vanilla. Metti in pratica tutto quello che hai imparato sui derivati finanziari e prova ora il nostro conto bonus trading, senza mettere a rischio il tuo capitale. Fai trading in modo sicuro, dal momento che i fondi di tutti i nostri trader sono tenuti in conti segregati presso alcune delle banche più rinomate a livello internazionale. Stili di trading Qualunque trader, che si tratti di un trader alle prime armi oppure di un esperto di talento nel settore del Forex, ha uno stile di trading unico. Non esistono due trader uguali, in quanto anche se vengono seguite le stesse regole e informazioni, è probabile che i risultati di trading differiscano. Conoscere il proprio stile di trading Il trading è la partecipazione attiva nei mercati finanziari, dove i singoli trader cercano di generare un profitto sui movimenti dei vari mercati finanziari. Esistono, tuttavia, molti modi in cui i trader possono entrare e operare nei mercati e ogni trader ha il proprio metodo per raggiungere i propri obiettivi nel panorama finanziario internazionale. Conoscere il proprio stile di trading è di importanza fondamentale per avere successo. In questo articolo daremo uno sguardo più approfondito agli stili di trading più comuni adottati dai trader. Non esistono regole specifiche per indirizzare un trader in una delle seguenti categorie, per questo ti invitiamo a scegliere lo stile che più si adatta a te e alle tue esigenze e a goderti l'esperienza di trading. Trading nel breve e medio termine Il trading a breve termine, così come a medio termine, si riferisce al trading sul mercato azionario e dei future, dove la durata tra l'ingresso e l'uscita dal mercato, chiusura di una posizione, e è breve, generalmente da alcuni minuti a qualche giorno. Il trading nel breve e medio termine può essere molto remunerativo, ma allo stesso tempo molto rischioso, dal momento che i mercati sono imprevedibili e variano sensibilmente sulla base di diversi fattori che ne influenzano l'andamento. Recentemente, il boom del bitcoin trade ha dato nuova vita agli investimenti a breve termine. Conoscere il rischio e il potenziale profitto di ogni operazione ti aiuterà a farsi che la tua strategia abbia successo, oltre a permetterti di proteggerti contro gli eventi imprevedibili del mercato che, tuttavia, sono sempre in agguato. Identificare i parametri più opportuni per un'operazione a breve e medio termine di successo richiede la conoscenza di alcuni concetti di base. I fondamentali del trading nel breve e medio termine Riconoscere il potenziale di mercato nel trade online è importante capire la differenza tra un'opportunità di mercato e un mercato da evitare, a volte, è più saggio tenere al sicuro il proprio capitale che rischiare di perderlo su un mercato eccessivamente attivo. Tutto questo è possibile solo si vagliano le notizie finanziarie del giorno. Utilizzare diverse medie mobili Quindi, si tratta del prezzo medio di un asset durante un periodo di tempo specifico, 15, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni, durante il quale è possibile capire se l'asset si sta muovendo lungo un trend al rialzo o al ribasso. Riconoscere pattern ciclici Utilizzare differenti tipologie di investimento, come il mirror trading e il copy trader Nel trading a medio termine rimane valido quanto indicato sopra, con la sola differenza che i trader al dettaglio preferiscono mantenere le proprie posizioni aperte per uno o più giorni per trarre vantaggio dal quadro tecnico che caratterizza un dato asset. Lungo termine Alcuni trader mantengono le proprie posizioni aperte per lunghi periodi, che generalmente vanno da alcuni mesi fino ad alcuni anni, sulla base dello studio dei fattori fondamentali che influenzano i mercati. I trader di lungo termine necessitano di un maggior capitale sin dall'inizio, dal momento che gli investitori devono sopportare o comunque superare indenni una serie di oscillazioni di mercato durante il lungo periodo in cui la posizione rimane aperta. L'idea di base del trading nel lungo termine è quella di generare un profitto in modo graduale nel corso del tempo. L'investimento su azioni rappresenta l'esempio classico di investimento a lungo termine. Le azioni infatti, non hanno volatilità ed il loro andamento è stabile e monitorabile. Prendiamo ad esempio un colosso italiano, le azioni Ferrari. Come si può facilmente immaginare, impostando un investimento a lungo termine su di esse, difficilmente troveremo sorprese. Il tutto può essere verificato attraverso l'allenamento sul proprio conto demo. Per ironia, il tempo speso per aprire e mantenere aperta un'operazione con orizzonte temporale a lungo termine è molto meno di quello speso per le operazioni con orizzonte temporale di breve e medio periodo. Quest'ultime inoltre richiedono reazioni immediate in risposta ai trend di mercato, con un forte dispendio di energia. Data l'importanza di mettere in atto strategie di gestione del rischio, vediamo qui di seguito qualche spunto da tenere sempre a mente. Utilizzare una leva finanziaria trading ridotta, è importante negoziare volumi che rappresentano una piccola percentuale del proprio patrimonio, in questo modo è possibile sostenere una volatilità settimanale o giornaliera. Tenere sempre a mente i costi di swap Gli swap sono commissioni addebitate da tutti i broker online per mantenere aperte le posizioni durante la notte. Esistono casi in cui è possibile incorrere in swap positivi, ma nella maggior parte dei casi si tratta di swap negativi, per questo bisogna sempre considerare questa spesa. Tempo vs Profitto potenziale È importante considerare il tempo speso nel trading e valutare il rispettivo profitto potenziale. I trader di lungo termine dovrebbero impiegare capitali piuttosto considerevoli per fare in modo che l'investimento ripaghi il tempo speso. L'errore più comune tra i trader di lungo termine è quello di non raggiungere il profitto prefissato, anche utilizzando la migliora strategia, e questo può succedere quando si utilizza una leva troppo bassa. Informarsi sul calcolo della Tobin Taxi e delle relative restrizioni. Diamo ora uno sguardo alle sottocategorie di trader e alle strategie di trading più comunemente utilizzate. Scalping Si tratta di una strategia di day trading molto rapida, nella quale le posizioni vengono aperte e chiuse nel giro di secondi o minuti. I trader che fanno scalping acquistano e vendono molte posizioni, con l'obiettivo di generare un profitto sulla base dei più piccoli movimenti di prezzo intraday. Uno dei vantaggi dello scalping è che i trader non incorrono in spese extra per tenere aperte le posizioni durante la notte, commissioni di rollover. I trader hanno obiettivi di profitto specifici e gli ordini di stop vengono utilizzati per gestire l'entrata e l'uscita dal mercato, dal momento che i trader che utilizzano questa strategia aprono diverse operazioni simultaneamente. Data la natura rapida dello scalping, non esistono pattern né analisi, tuttavia, i trader utilizzano i grafici a 1 o 5 minuti per prendere le proprie decisioni in modo rapido. Day trading Come dice la parola stessa il day trading indica l'acquisto e la vendita di asset nel corso della stessa giornata. Questa tipologia di trader genera i propri profitti tramite l'utilizzo della leva, che permette loro di gestire i capitali più elevati e trarre vantaggio degli strumenti soggetti ad elevata liquidità anche a fronte di lievi oscillazioni di prezzo sui mercati. Il day trading rappresenta un'altra strategia dove non si incorre in commissioni di rollover, dal momento che tutte le operazioni vengono aperte e chiuse nella stessa giornata. Dal momento che il day trading è rischioso ma offre elevati profitti, i trader che utilizzano questa strategia devono avere le idee chiare su due fattori importanti, la liquidità e la volatilità. La liquidità dei mercati permette di entrare e uscire dalle operazioni al miglior prezzo. In che modo? Si prende in considerazione la differenza tra il prezzo ASC e il prezzo BID, lo spread, un basso slippage e si opta per spread ridotti. La volatilità è data dalla variazione del prezzo prevista durante il giorno, durante le ore di attività dei day trader. Maggiore è la volatilità, maggiore è anche il potenziale profitto, così come le potenziali perdite. Le seguenti tecniche possono essere utili per migliorare come day trader. Identificare possibili ingressi, i grafici a candela intraday, le quotazioni ECN e le notizie in tempo reale sono ottimi indicatori per entrare nei mercati al momento giusto. Identificare prezzi obiettivo Identificare il prezzo obiettivo migliore per entrare nei mercati è fondamentale per assicurarsi di generare un profitto al momento della chiusura dell'operazione. Stop loss Il trading in marginazione aumenta il rischio ed espone il trader a rapidi movimenti di prezzo. L'utilizzo degli ordini di stop loss limita le perdite su ogni operazione. Superare le probabilità Valutare la propria performance seguendo con attenzione la propria strategia invece di inseguire a tutti i costi un profitto. Swing trading Lo swing trading si riferisce ad uno stile di trading che tende verso il trading fondamentale, in cui le posizioni vengono aperte e mantenute aperte per giorni o settimane. Ciò che rende l'operazione di natura più fondamentale è che lo swing trading incorpora le variazioni dei fondamentali nel corso di più giorni e mira a generare profitti sulla base delle variazioni di mercato nel medio termine. Mantenere le posizioni aperte durante la notte ha un costo, ma le posizioni possono essere tenute aperte per diverse settimane. Gli swing trader solitamente si trovano a metà strada tra i day trader e i trend trader. I day trader aprono posizioni che durano da alcuni secondi a qualche ora, ma che non superano mai la giornata, mentre i trend trader preferiscono esaminare trend nel lungo termine studiando i trend fondamentali, che può richiedere settimane o mesi. Gli swing trader in generale tengono aperte le posizioni da un minimo di qualche giorno ad un massimo di tre settimane e vanno alla ricerca di movimenti agli estremi di determinati intervalli all'interno di tali periodi di tempo. Questo stile di trading è particolarmente apprezzato dai trader principianti che si apprestano ad entrare sui mercati finanziari, ma offre un buon potenziale di profitto anche per trader avanzati o intermedi. Trading di posizione Il trading di posizione si addice ai trader che desiderano tenere aperte le proprie posizioni per periodi della durata di mesi o anni, che non prestano attenzione alle oscillazioni di mercato nel breve termine, in quanto investono nel lungo termine e credono che le piccole variazioni di mercato si compensino nel tempo. Il trading di posizione è esattamente l'opposto del day trading, dal momento che l'obiettivo è quello di generare profitti nel lungo periodo sulla base del movimento del trend, e non della variazione minima di prezzo nel breve termine. Questo stile è consigliato per chi vuole investire in EFT. Molti trader che utilizzano questa strategia tengono monitorati i grafici settimanali o mensili per avere un'idea di dove si trova l'asset scelto rispetto al suo trend. A tal proposito, l'analisi tecnica Forex in tempo reale e l'analisi fondamentale viene utilizzata per valutare i grafici di prezzo e l'attività di mercato. Mantenere le posizioni aperte da un giorno con l'altro comporta, anche in questo caso, spese di rollover. Perché fare trading con AvaTrade? Una volta apprezzate le caratteristiche dei diversi stili di trading, potrai testarli con uno dei nostri conti Forex Demo, per capire qual è il più adatto a te, totalmente senza rischi. Accedi ai migliori materiali formativi per accrescere le tue conoscenze dei mercati e ricevi il miglior supporto 24 barra 5 punto scopri perché AvaTrade è uno dei migliori broker italiani. Ti offriamo molti strumenti di trading gratuiti, così quando deciderai di entrare nei mercati lo farai con sicurezza. Registrati ora su AvaTrade e fai trading anche tu con il broker migliore del settore. Cos'è un piano di trading? La maggior parte di noi fa dei piani nella propria vita al fine di perseguire le proprie priorità personali e avere successo. Negli investimenti di CFD online o nel Forex, o quando si vuole comprare Bitcoin, spesso la differenza tra un'operazione in profitto o in perdita è davvero sottile, pertanto saper fare le scelte giuste è di fondamentale importanza. Se non si ha un piano di trading, o di investimento, la prospettiva non può che essere di un fallimento. Alla base di un piano di trading Forex online è la definizione di una serie di regole e linee guida che possano essere d'aiuto nel raggiungere i propri obiettivi di trading. L'importanza di avere un piano di trading Entrare nel mondo del trading può far paura e nell'arco della propria carriera come trader si perderanno dei soldi mentre si cercherà di seguire l'attività e le oscillazioni di mercato. I trader tendono a sfruttare i segnali, gli indici di borsa, l'analisi tecnica Forex e O o le notizie quotidiane delle azioni della borsa italiana, per seguire i pattern e le variazioni di mercato. Tuttavia, pianificare adeguatamente le proprie operazioni contribuirà a ridurre il rischio di prosciugare il proprio conto di trading. Un modo altrettanto conveniente è senza dubbio quello di conto Forex Demo, per esercitasi a fare pratica, senza rischiare di perdere il capitale investito. Sicuramente, molti di voi si sono avvicinati al mondo del trading perché spinti dal guadagno facile. È chiaro che come tutte le belle cose, anche il trading online presenta dei rischi, ma che possono essere arginati e ridotti ai minimi termini seguendo semplici consigli. Solitamente AvaTrade consiglia vivamente di evitare lo spread trading e di esercitarsi sempre per tutto il tempo necessario con il conto Demo che viene offerto a tutti. Inoltre, si consiglia di effettuare investimenti su asset dalla bassa volatilità, per evitare repentine sorprese. Tra gli assets più affidabili, spiccano senza dubbio le azioni online, le criptovalute come il Litecoin e le quotazioni petrolio. Investire in azioni è un tipo di investimento che difficilmente conoscerà cali di prestazione. Prendiamo ad esempio la quotazione azioni Apple. Il colosso di Cupertino è in costante ascesa e investire in esso può generare enormi profitti. Come sviluppare un piano di trading? Analisi personale Assicurati di essere pronto per fare trading e di saper seguire i segnali senza esitazione. Scopri quali sono i tuoi punti di forza e le tue debolezze prima di aprire una posizione. Obiettivi di trading Inizia con lo scrivere i tuoi obiettivi di trading e con il definire obiettivi realistici. Tieni sempre a mente e valuta i tuoi obiettivi finanziari e le tempistiche per raggiungere ciascun obiettivo di trading, assicurandoti di chiudere la posizione ogni qualvolta generi un successo, senza diventare avido. Identifica i mercati di interesse e gli orari di riferimento, seleziona il mercato su cui operare sulla base della tua conoscenza e della tua esperienza. Il mercato migliore è quello che conosci meglio. Non ha senso aprire una posizione in un mercato estero che non conosci perché si ritiene semplicemente che possa dar luogo a dei profitti. Inoltre verifica sempre gli orari di contrattazione di ogni singolo mercato, in quanto il tempismo è fondamentale quando si opera sui mercati. Definisci quanto sei disposto a rischiare Ogni volta che apri una posizione o alimenti il tuo conto di trading, assicurati di non versare più di quanto sei disposto a rischiare. È importante non farsi prendere dalle emozioni quando si fa trading, pertanto alimenta il conto e attieniti all'importo inizialmente depositato. Controlla il tuo patrimonio tramite sistemi opportuni di gestione del denaro, detto money management. A questo punto bisogna definire quando aprire una posizione e in quale direzione, acquisto o vendita. L'analisi dei grafici o la lettura delle ultime analisi di mercato ha un ruolo fondamentale in questo processo decisionale. Definisci i punti di ingresso e di uscita. In altre parole è necessario definire i livelli di stop loss, blocco delle perdite, e take profit, presa di benefici. Lasciare un certo margine per delle correzioni può essere opportuno, tuttavia è importante farsi che le emozioni non prendano il sopravvento mentre si fa trading. Gestisci le emozioni Non permettere che i tuoi sentimenti e le tue emozioni offuschino la tua capacità di giudizio. Gestisci il trading come una normale attività aziendale. Elementi da prendere in considerazione nel proprio piano di trading. Gli obiettivi di redditività devono essere realistici. Affidarsi ai migliori broker italiani Come determinare la dimensione delle posizioni in relazione al budget di trading a disposizione. Tener traccia delle proprie operazioni, ovvero cosa è stato aperto e cosa è stato chiuso, sulle migliori piattaforme di trading online, cosa ha dato origine ad un profitto e cosa ha generato una perdita, ecc. Nel settore si parla di e-diario di trading e questo risulta essere uno strumento particolarmente utile per valutare la performance complessiva e l'accuratezza delle previsioni che vengono fatte. Tenersi sempre aggiornati sulle notizie finanziarie del giorno. Come gestire le posizioni una volta aperte. Definizione di criteri imparziali da poter utilizzare per selezionare, aprire e chiudere operazioni. Attieniti sempre al tuo piano Domande da porsi quando si definisce un piano Quale motivazione si ha per fare trading? Qual è l'approccio adottato nei confronti del rischio? Quanto tempo si ha da dedicare al trading? Qual è il livello di conoscenza su cui si può fare affidamento? Perché creare un piano di trading? Per lo stesso motivo per cui quando si inizia a costruire una casa si definisce un progetto e non si iniziano a comprare mattoni e calcestruzzo senza aver prima definito le fondazioni e aver fatto i debiti calcoli di quanto denaro si andrà a spendere. Nel trading le cose funzionano in modo simile, pertanto anche se si ha già esperienza nei mercati, questa non è sufficiente per fare trading alla cieca. Il trading forex e di CFD dovrebbe essere trattato come un'azienda, con una struttura finalizzata ad una crescita di successo. Inoltre, quando si verificano variazioni repentine sui mercati, un piano di trading sarà d'aiuto per poter tenere fede ai propri obiettivi ed evitare decisioni affrettate di cui ci si potrebbe pentire in seguito. Fare trading in modo obiettivo con un piano ben definito consentirà di avere più sicurezza in sé e di partecipare in modo meno emotivo. Tutti dovrebbero avere un piano di trading. Sia che tu ti stia prestando ad entrare nel mondo del trading o sia già un trader con una certa esperienza, è sempre importante essere preparati. Un buon piano di trading ti aiuterà in diversi aspetti, come identificare i tuoi obiettivi, organizzare la tua ricerca e trovare statistiche per il tuo trading. La decisione relativa a quale direzione prendere per essere concorde all'andamento dei mercati ti aiuterà a gestire le emozioni quando subirai una serie di perdite e ti fornirà un aiuto per riprenderti da un'operazione andata male. I mercati non scelgono i loro trader preferiti e tutti sono a rischio, nuovi o esperti che siano, e senza un piano il mercato non perdonerà. Con l'ulteriore assistenza offerta per il tuo trading quotidiano AvaTrade ti può aiutare a pianificare le tue operazioni e a valutare i rischi. Crea ora il tuo Forex conto reale e ottieni il miglior supporto 24-5. Come investire in azioni Prima di iniziare ad approfondire, è importante sottolineare che nel trading azionario tradizionale si acquistano frazioni di un'azienda, per quanto piccola. Maggiore è il numero di azioni, maggiore sarà la propria effetta e di azienda. Esistono migliaia di azioni per le aziende quotate in borsa, ma solo alcune possono essere etichettate come le migliori azioni da comprare, e molte sono inserite o tolte dai listini ogni giorno. Avere quotidianamente accesso alle notizie finanziarie è vitale per poter essere sempre in prima linea nelle operazioni di mercato. Il valore di un'azione dipende da un'ampia gamma di fattori, i fondamentali dell'azienda, le problematiche geopolitiche, l'inflazione, la disoccupazione, la tassazione e tanti altri ancora. Tutti questi fattori concorrono, e spesso viaggiano in direzioni diverse, per determinare il prezzo delle azioni di un'azienda. I principali fattori a decidere il prezzo delle azioni, tuttavia, sono speculazione e percezione. Più persone credono che il prezzo di un'azione salirà o scenderà, più è probabile che spingano di fatto quel prezzo ad aumentare o a scendere. Esiste un modo per poter sperimentare senza rischiare il proprio capitale investito? Certo che esiste. Noi di AvaTrade ti diamo l'opportunità di aprire un conto Forex Demo, per poterti esercitare e capire come funziona il trading online. Che cos'è un'azione? Nel mondo della finanza un'azione rappresenta una quota della proprietà di una società. Quindi se per esempio la società decima, quotata per un valore di 100 milioni di euro, emette 10 milioni di azioni, il valore di ogni singola azione sarà di 10 euro, 100 barra diei. L'andamento delle azioni, chiamate anche titoli azionari o semplicemente titoli, dipende dall'andamento della società, se questa rilascia dati positivi, come aumento vendite, utili oppure sentiment generale, e allora il prezzo delle azioni salirà. Il motivo per cui le società mettono azioni in borsa è principalmente quello di raccogliere capitale da reinvestire nell'azienda. Prezzo di acquisto e vendita di azioni. I termini tecnici usati nel mondo della finanza per definire l'acquisto o vendita di azioni sono e lettera e e denaro. Prezzo lettera, è il prezzo di acquisto di un'azione, in borsa è sempre superiore a quello di vendita in modo da favorire le operazioni di vendita e acquisto, in inglese ask price. Prezzo denaro, è il prezzo di vendita di un'azione, in inglese bid price. Il differenziale denaro lettera, detto spread in inglese, è praticamente il costo della transazione acquisto-vendita. In un mercato ad alta volatilità è difficile stabilire con esattezza il prezzo in quanto questo si muove velocemente. Per avere la certezza del prezzo si può immettere un ordine di stop o limite quando si immette l'ordine definendo così il prezzo preciso. Acquista le azioni delle principali aziende al mondo. Avatrade offre più di 100 azioni, tra cui Azioni Apple Azioni Tesla Azioni Telecom Azioni Unicredit E tantissime altre Scopri di più su tutte le azioni che offriamo tra i nostri strumenti finanziari. Quali sono i vantaggi del trading di CFD di azioni? Il CFD trading in azioni è diverso dall'investire in azioni. Con i CFD acquisto il sottostante dell'azione, ossia un prodotto derivato il cui valore deriva dal titolo del sottostante. Per esempio se il titolo trentesimo ha un rialzo in borsa il CFD del titolo trentesimo avrà allo stesso modo un rialzo nel suo valore. I vantaggi di negoziare CFD azionari invece delle azioni stesse sono Possibilità di fare trading anche sui ribassi, posso aprire posizioni short se penso che il titolo calerà. Con le azioni si guadagna solo se il titolo sale. Uso della leva finanziaria, non sono necessari grossi capitali. Con la leva finanziaria posso effettuare operazioni con un valore di capitale molto superiore di quello che effettivamente investo. La differenza principale tra investire in azioni e fare trading di azioni sta nella tempistica dell'operazione. È raro che un'azione dia risultati in tempi brevi, generalmente ci possono volere mesi o addirittura anni prima di avere un guadagno. Ma tempi lunghi sono sempre difficili da analizzare perché possono sempre esserci imprevisti a livello politico ed economico sia su scala nazionale che internazionale che possono interferire sul prezzo. I CFD di azioni invece sono pensati per periodi molto più brevi, già in pochi secondi è possibile aprire e chiudere una posizione. Perché il trading di CFD è più semplice? Facendo trading di CFD su azioni come Google, Coca-Cola, Apple o Barclays non acquisti parti di un'azienda, firmi invece un contratto CFD con il broker online, che stabilisce che ti verrà pagata o sottratta la differenza di prezzo tra il prezzo d'entrata e il prezzo d'uscita dell'operazione. I prezzi cambiano di continuo, ma i trader possono sempre approfittare di queste fluttuazioni, anche in un mercato al ribasso. Dato che non prendi possesso dell'asset su cui fai trading la leva è di 20 e un minuto, con un piccolo investimento, cioè, puoi fare trading su volumi di azioni molto maggiori. Non va dimenticato che il trading di CFD sulle azioni ha anche dei contro, e si consiglia di fare trading comunque in modo responsabile. Come si guadagna con il trading di azioni? Il guadagno con il trading di CFD azionari può essere dato dalle operazioni di compravendita positive, vendo ad un prezzo maggiore di quello di acquisto. Dal dividendo societario, una rendita che la società rilascia ai propri azionisti su base semestrale annuale, il dividendo non è sempre garantito. La piattaforma di trading è fondamentale. Uno degli aspetti più importanti del trading di azioni è la piattaforma di trading utilizzata. Su AvaTrade trovi alcune delle piattaforme di trading più solide, potenti e innovative sul mercato. Una fra tutte, la Metatrader 4 Download. Potrai usare vari grafici, funzionalità di gestione e altre funzioni per migliorare notevolmente la tua esperienza di trading complessiva. Inoltre avrai sempre sotto mano il tuo portafoglio di azioni, indici, forex e commodity. I nostri trader sono sempre aggiornati grazie alle notizie, alle risorse formative e ai commenti al mercato, che ti terranno informato sulle ultime notizie in fatto di tendenze e movimenti del mondo delle azioni. Ora che sai come fare trading di azioni online su AvaTrade, registrati ora e apri un conto forex demo. Saremo felici di ricompensarti con un bonus trading di benvenuto fino a 10.000 euro al momento della registrazione. Gestione fondi di trading Onostante il titolo gestione del denaro possa sembrare già di per sé chiaro e facile da implementare, saper gestire il proprio denaro e investire con giudizio è un po' più complesso. La gestione del denaro include un processo in formato di risparmio, investimento, definizione del budget e spesa del reddito familiare, ma può includere anche la supervisione dell'utilizzo del denaro per una certa attività. In un modo o nell'altro tutti noi adottiamo diverse forme di gestione del denaro nella vita di tutti i giorni, sia per la propria vita privata sia per la gestione degli investimenti, come ad esempio nel trading online. Per poter fare FX trading è necessario capire cos'è Forex e nei CFD con successo è richiesta discipline e una conoscenza adeguata di elementi di base essenziali per ottenere dei profitti nel lungo termine in questo settore. L'inesperienza è forse la principale ragione dietro la perdita di denaro da parte dei trader nei CFD online e nel Forex. Trascurare i principi di gestione del denaro porta ad un aumento dei rischi e ad un calo dei benefici. Dal momento in cui il Forex è spesso estremamente volatile, questo comporta un rischio intrinseco, pertanto sviluppare abilità adeguate di gestione del denaro è essenziale quando si opera sui mercati. In termini di volatilità, forse gli investimenti considerati più stabili sono quelli legati alle azioni online. Investire in azioni potrebbe regalare sorprese molto remunerative. Prendiamo ad esempio le azioni di una delle più grandi aziende di telecomunicazioni Europa, le azioni Telecom. Aziende multilionarie come queste, godono sempre di trend positivi in borsa e gli investimenti regalano molto spesso piacevoli sorprese. Da provare sicuramente con il tuo conto demo. Gestione del rischio Quando si effettua un'operazione di trading nel Forex o nei CFD è importante essere consapevoli del fatto che si tratta di un'operazione rischiosa e di accettare i rischi connessi alla leva Forex seppure esistono diversi modi per ridurre i rischi. Nonostante i profitti sono generalmente legati a dei rischi, ecco alcuni principi da seguire. Esercitarsi nella definizione della dimensione della posizione. Riconoscere i rischi di trading. Analizzare e valutare tali rischi. Definire delle soluzioni finalizzate a ridurre i rischi. Applicare e gestire tali soluzioni su base costante. Metatrader 4 Download per potersi esercitare. Per definire la dimensione della propria posizione si possono adottare diverse tecniche, più o meno complesse, a seconda della piattaforma di riferimento, per gestire in modo semplice e pratico sia le operazioni in perdita che quelle in profitto. Di seguito presentiamo tre modelli che è possibile seguire. Dimensione fissa dell'otto. Si tratta di un valido approccio per i trader principianti che intendono avviare una carriera nel trading. In questo modo i trader faranno trading con una posizione sempre delle stesse dimensioni, probabilmente contenuta. Il numero di lotti può variare a seconda della dimensione del conto, che potrà aumentare o diminuire durante il trading. Le dimensioni del conto sono importanti quando si inizia, è bene partire con importi contenuti e utilizzare una leva di 2 e 1 minuto, per aumentare in modo costante il potenziale di crescita e di profitto nel corso del tempo. Percentuale del patrimonio. Con questa strategia la dimensione della posizione corrisponderà ad una percentuale del patrimonio. È bene determinare la percentuale di patrimonio da allocare ad ogni posizione in modo tale da consentire una crescita del patrimonio. È sempre possibile aumentare la percentuale di patrimonio allocata ad ogni posizione, ma è bene ricordare che maggiore è il potenziale di profitto, maggiore è anche il rischio. Qual è una percentuale di patrimonio e sicura e con cui fare trading? In linea generale si raccomanda di operare con una percentuale di patrimonio contenuta, pari a circa l1% o il 2%, che equivale ad una leva di 50, 1 per singola operazione. Questo consente di mantenere la posizione aperta più a lungo. Andando ad aggiustare la dimensione della posizione in modo proporzionale rispetto al patrimonio, se si va incontro a delle perdite, si andrà a ridurre la posizione al fine di evitare che il conto venga prosciugato rapidamente. È certamente possibile ridurre la dimensione dell'operazione iniziale quando si va incontro ad una serie di operazioni in perdita al fine di minimizzare il danno. Anche se può risultare ovvio, vale la pena ricordare che ci vuole meno tempo a perdere un certo importo che recuperare le perdite e raggiungere il livello di partenza. Percentuale di patrimonio avanzata con stop loss Questo metodo prevede la definizione di un limite per ogni operazione ad una percentuale del patrimonio complessivo sul conto, generalmente variabile tra il 2 e il 10%. Si tratta di una strategia utilizzata nel trading con opzioni e di future che favorisce una maggiore esposizione al mercato ma mira a proteggere i profitti accumulati. Linee guida per definire livelli di esposizione giornalieri o settimanali per il trading. Facciamo un esempio pratico, se il saldo del conto di un trader è di 1000 dollari e decide di rischiare solo il 2% del saldo, 20 dollari, e per ogni operazione, qualora decidesse di negoziare un mini lotto, 10.000, e di euro-dollaro, ogni pip vale un dollaro-usa. In questo caso il trader dovrà inserire un ordine di stop loss se il prezzo cala di 20 pip. 5 operazioni consecutive in perdita si tradurranno all'incirca in una perdita di 100 dollari. Ora ammettiamo che il trader sia disposto a rischiare il 10% del proprio patrimonio su una singola operazione e decida di negoziare un lotto standard di 100.000 unità di euro-dollaro. In questo caso ogni pip vale 10 dollari usa e il trader dovrà quindi inserire un ordine di stop loss se il prezzo cala di 10 pip uguale dollaro 100, e sulla sua prima operazione. Nel caso in cui la prima operazione chiude in perdita, il nuovo target di stop loss sarà 9 pip uguale dollaro 90, pari al 10% del saldo rimanente di 900 dollari, e così via con 8, 7 e 6 pip nelle successive operazioni in perdita. 5 operazioni consecutive in perdita con questa esposizione comporteranno una perdita totale di 400 dollari. Numero di operazioni in perdita, saldo 1000 dollari. Esposizione del 2% Esposizione del 10% 1. 980 dollari 900 dollari 2. 960 dollari 810 dollari 3. 940 dollari 730 dollari 4. 920 dollari 660 dollari 5. 900 dollari 600 dollari Tali livelli di esposizione Tali livelli di esposizione possono essere definiti con diversi periodi temporali di riferimento, ad esempio giornaliera o settimanale. Se ad esempio il livello di esposizione giornaliero è pari al 10% del saldo, nel primo esempio il trader dovrà smettere di fare trading il giorno stesso in cui ha perso 100 dollari. Profili di rischio di rischio e rendimento utilizzando lo stop loss. Quando sei pronto per iniziare a fare trading, apri un conto di trading reale sulla piattaforma appropriata e deposita un importo di capitale che ritieni opportuno. Proteggere il capitale investito nel caso in cui l'investimento va nella direzione opposta a quella prevista è essenziale e rappresenta la base della gestione del denaro. Per fare trading all'insegna di un approccio rigoroso nella gestione del denaro è opportuno adottare profili di rischio e rendimento adeguati e implementare degli stop e trailing stop. Trailing stop Gli ordini di trailing stop offrono ulteriori vantaggi rispetto agli ordini di stop loss e rappresentano uno strumento più flessibile per limitare le perdite e proteggere il proprio conto quando il prezzo dello strumento negoziato cala. Il vantaggio del trailing stop è che si tratta di un ordine dinamico che segue il trend del titolo, fornendo così una tutela del capitale e una soluzione di gestione del rischio per il proprio conto. Il vantaggio principale del trailing stop è che non solo permette di proteggere il saldo del conto, ma anche i profitti maturati man mano dalla posizione in essere. 10 operazioni perdita vincita 1-1$ 2-3$ 3-1$ 4-3$ 5-1$ 6-3$ 7-1$ 8-3$ 9-1$ 10-3$ total, 5$ 15$. Comprare Bitcoin Scoprilo su AvaTrade Applicare ordini di stop e limite sulle posizioni Come broker che ha a cuore i propri clienti ti raccomandiamo di definire degli ordini di stop loss. Tali ordini sono estremamente importanti ed è opportuno dedicare la giusta attenzione e precisione quando si definiscono, senza tentare la fortuna. Ogni operazione deve essere corredata dal suo stop loss, che rappresenta l'ancora di salvezza che ti proteggerà da forti movimenti di prezzo. Passaggi per impostare ordini di stop loss e take profit Segnati l'obiettivo di profitto in PIP È possibile definire tale obiettivo in modo arbitrario o derivandolo da livelli di prezzo previsti in relazione al prezzo di mercato corrente. Prendi il valore identificato nella fase precedente e dividilo per il rapporto di rendimento rischio per calcolare il movimento di prezzo negativo massimo consentito. Ora sei pronto per impostare i tuoi ordini di stop loss e take profit prendendo i valori del tuo obiettivo di profitto e tolleranza al rischio e calcolando la distanza dal prezzo di mercato corrente, in PIP, sia per il rischio massimo che per il rendimento massimo desiderato. Questi due numeri andranno a definire esattamente i livelli di stop loss e take profit. Facciamo un esempio pratico di quanto descritto sopra. Ammettiamo che il prezzo corrente dell'EUR barra OSD sia 1.02660. Prevediamo che il mercato venga scambiato al rialzo e vogliamo cavalcare il trend, dal momento che riteniamo che il mercato crescerà almeno fino a 1.02759. Prendiamo quindi il nostro prezzo target di 1.02760 e sottraiamo il prezzo corrente di mercato di 1.02660. 1.02760 1.02660 uguale 100 PIPs. Per calcolare il valore in PIP del fattore di rischio sulla base di un rapporto di rendimento rischio di 3 e un minuto, andremo a dividere il numero totale di PIP, 100, per il rapporto di rendimento, 3, e uguale 33.33 PIP rischio. In questo modo abbiamo definito gli obiettivi di rischio e rendimento e potremo così definire i livelli di SL e TP. Infine, prenderemo il prezzo corrente di mercato e sottrarremo il valore di rischio, e allo stesso modo prenderemo il prezzo corrente di mercato e aggiungeremo il valore di profitto, definendo rispettivamente lo SL e il TP. 1.02660.00033 uguale 1.02627SL 1.02660 più 0.00100 uguale 1.02760 TP 2.02667 3.02667